Buon parigio a tutti, io mi chiamo Carlo Maiorino, sono uno degli amministratori della scuola di management della SA, nella quale oggi siete ospiti per questo convegno. Ho il piacere anche di guidare le relazioni come moderatore del nostro convegno di oggi. La SA, molti di voi sono venuti ai convegni precedenti, ma anche per il tempo e per dare lo spazio ai relatori, sapete che noi siamo una società partecipata dell'Università di Torino, una scuola di management. L'Ateneo ha voluto fare della SA questo strumento di coordinamento non solo delle attività istituzionali, quindi dei corsi di laurea, ma anche delle attività di formazione e così come dire le attività, chiamiamole commerciali, quindi master, quindi attività di formazione che noi eroghiamo al sistema bancario e ad altri soggetti, penso a SKF e ad altre aziende con le quali noi ci relazioniamo. Quindi la nostra scuola di management in questo contesto ha anche costruito attraverso una collaborazione con l'editore Giapichelli una rivista scientifica che si chiama Diritto d'Economia dell'Impresa, che vedete in questo momento la professoressa Cugno vi fa un po' vedere come funziona il nostro portale. Il lavoro della rivista diretta dal professor Luciano Quattrocchio, che oggi è anche con noi in quell'età di relatore, è un lavoro interdisciplinare, un lavoro coordinato. La rivista è una rivista scientifica di fascia universitaria, gli accademici lo sanno, è una rivista nella quale declinano, oltre gli articoli di dottrina, declinano anche gli atti dei convegni che noi organizziamo, dei convegni di formazione come quello odierno, convegni che trattano in via generale della materia del diritto dell'economia d'impresa appunto nell'approccio interdisciplinare. Io lo dico con orgoglio, Luciano, che noi abbiamo, oltre che l'interdisciplinarità di materia, ce l'abbiamo anche di relatori. Abbiamo in via generale nei nostri convegni la magistratura, civile, penale, contabile, l'accademia, ovviamente, e i liberi professionisti. Questo perché riteniamo che il valore aggiunto della nostra convegnistica, che da convegno a convegno, declina poi nel mese della rivista successiva al convegno, quindi gli atti del convegno di oggi li troverete nel numero della rivista del prossimo mese. Riteniamo che la vision che hanno soggetti diversi per quanto riguarda il tipo di attività professionale che svolgono rispetto a un singolo tema, sia un valore aggiunto rispetto, diciamo così, via la convegnistica tradizionale. Abbiamo presentato cinque convegni in questo inizio di stagione della rivista. Abbiamo parlato dell'impresa, la rivista tratta di diritto dell'economia di impresa, quindi intangible, abbiamo parlato di marchi brevetti, abbiamo parlato di crediti nelle imprese in bonus e nelle procedure concorsuali, abbiamo parlato di vendite competitive, della riforma della pubblica amministrazione, nelle sue prime applicazioni e nelle sue criticità. Quindi, come vedete, l'orizzonte è sì interdisciplinare nel senso di diritto ed economia, ma ha anche spazia, ad esempio, anche sulla materia del diritto amministrativo. Oggi abbiamo infatti il professor Foa che ci parlerà delle reti d'impresa, no, scusate, le reti d'impresa nella pubblica amministrazione, ce ne parlerà l'avvocato Rostagno, delle aggregazioni d'impresa e negli appalti pubblici. Mentre il professor Foa oggi non c'è, scusate, ma l'amico Foa oggi non c'è, oggi? Benissimo. Allora, reti d'impresa. Reti d'impresa, nella logica esplorativa e interdisciplinare, noi affrontiamo con il convegno le diverse forme di aggregazione d'impresa, da quelle tradizionali, dai gruppi di società alle associazioni temporanei d'impresa, fino ovviamente alle recenti normative, alla legge 33 del 2009 e alle modifiche del 2012, alle integrazioni, che hanno determinato certamente un'evoluzione di quegli strumenti tradizionali che riguardano l'aggregazione delle imprese. Non parleremo oggi di quello antico strumento che è l'associazione di partecipazione, che forse nel nostro codice preannunziava, oramai parecchi decenni or sono, insomma, un interesse affinché vi potessero essere fra imprenditori delle aggregazioni. L'esplorazione è verticale, analizziamo le diverse forme, è orizzontale, perché analizziamo gli aspetti giuridici ed economici e fiscali. Io do solamente un dato, prima che la professoressa Cugno ci racconti del tema più ampio, se vogliamo dire, che riguarda la crescita e l'innovazione, perché questi strumenti aggregativi sono ovviamente diretti a rendere maggiormente competitive le nostre aziende, che noi abbiamo 3.056 reti di impresa in Italia con 15.500 imprese aggregate. Il trend di crescita è degli ultimi 5 anni, se non vado errato. In particolare, come sempre, la Lombardia la fa da padrona, abbiamo 2.600 reti di impresa in Lombardia, il Piemonte è al nono posto, si posiziona in una fase, diciamo, a metà, perché sono circa 15 le selezioni sono state fatte e verificate e ha circa un quarto delle reti di impresa Lombarde. Le altre, più sopra di noi, prima di noi, sono Veneto e sono Centro Italia, tendenzialmente, Emilia Romagna, Lazio, esattamente, Toscana e Lazio. Ora, professor Sacugno, reti di impresa, crescita e innovazione. Partiamo con te. Grazie. realizzare, scusate, non mi sono resa conto così mi sentono meglio, di realizzare un'analisi delle reti di impresa a livello nazionale, prendendo in considerazione o partendo da un assunto, che in parte ci ha già detto il Presidente, che è quello di andare a vedere nella dottrina della letteratura nazionale e internazionale qual è il percorso, come nasce l'esigenza, in qualche modo, di occuparci di reti di impresa. La nascita riguarda sostanzialmente una prima considerazione che può essere analizzata se noi pensiamo che un'impresa nasce e si sviluppa, ma per il suo sviluppo, da un punto di vista economico, sono necessarie una serie di risorse che sovente non vengono trovate all'interno della realtà di impresa, ma devono essere guidate o sviluppate grazie, in qualche modo, all'instaurazione di legami con persone terze o all'egregazione attraverso acquisizioni o fusioni. La considerazione è ancora più forte se noi pensiamo che il 95% del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole e medie imprese, dove in qualche modo la necessità di internazionarsi o di creare innovazione in realtà è in qualche modo legata a un problema di nanismo che caratterizza qualsiasi tessuto imprenditoriale, ma ancora di più il tessuto imprenditoriale italiano. L'obiettivo quindi della giornata di oggi è quello di andare a analizzare il problema delle reti di imprese, in particolare di tutte le tipologie di aggregazione attraverso i due principali problemi che nascono nella relazione delle reti di impresa, sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista economico. Da un punto di vista giuridico c'è il problema della costituzione, della tutela, della gestione tributaria dei lavoratori. Da un punto di vista economico, che è quello che in qualche modo cercherò di individuare in questo poco tempo che mi rimane, è quello di andare a studiare la gestione dell'organizzazione, il profilo strategico, l'interazione tra i diversi attori e infine la misurazione di quanto in qualche modo grazie alle reti noi riusciamo ad ottenere in termini sia di competitività sia di innovazione. Se noi consideriamo la letteratura sulle relazioni di impresa ci rendiamo conto che negli ultimi 80 anni ci sono stati una serie di discipline che si sono occupati delle relazioni di impresa con un focus particolare alle relazioni industriali nei distretti industriali e quindi alle relazioni tra imprese all'interno di un percorso ovviamente legato a un contesto locale specifico, a uno studio soprattutto di legami verticali tra fornitori e clienti con diversi approcci che vanno dall'approccio più tipicamente economico e quindi economisti, economisti regionali, economisti di impresa, a invece un approccio giurista o giuridico vero e proprio. Considerando solo e esclusivamente gli studi di management noi possiamo andare a individuare tre filoni di ricerca che vanno a comprendere quali sono le motivazioni che inducono le realtà imprenditoriali ad aggregarsi, a collaborare tra di loro, analizzare l'influenza del network sulle performance d'impresa e infine esplorare tutte le caratteristiche strutturali e organizzative della rete prodotta. Da notare che questa copiosa letteratura in realtà mette in luce che esistono delle differenze da un punto di vista di locuzioni, differenti soluzioni contrattuali, diversi ruoli dei partner, una diversa durata e caratteristica ovviamente del contratto di rete vero e proprio. Tuttavia sono unanimi gli studi nell'identificare che grazie alla rete, grazie a questa aggregazione è possibile sottolineare un maggior vantaggio competitivo, un maggior vantaggio legato all'innovazione. Vantaggio che ovviamente consente di andare ad combinare i diversi fattori produttivi ottenendo o una strategia di leadership di costo quindi legata in qualche modo a una riduzione dei costi o un miglior accesso ai capitali o almeno al costo del capitale. In entrambi i casi ovviamente vuol dire avere a disposizione anche nel caso della leadership di costo ulteriori soldi che possono anche essere reinvestiti all'interno del processo produttivo. Anche qui una considerazione, la considerazione che emerge è che i vari processi di integrazione e di collaborazione funzionano o hanno maggiori probabilità di ottenere questi vantaggi se c'è un commitment, una trasparenza, un adattamento, una fiducia dei vari partner per far affronte in qualche modo a questa necessità di competizione e di innovazione. A questo punto ci siamo fermati un attimo e abbiamo provato a chiederci se questo discorso di vantaggio competitivo può essere da un punto di vista economico anche riscontrabile in un nuovo strumento che la nostra normativa ha istituito nel 2009 che è il contratto di impresa. Ce lo siamo chiesti andando a fare un'analisi sia da un punto di vista teorico dello strumento, ovviamente prendendo in considerazione quali sono quegli aspetti economici che possono in qualche modo trasformare lo scopo, il progetto e le caratteristiche del contratto che possono in qualche modo far assumere una progettualità strategica da un punto di vista di impresa diversa e l'abbiamo confrontato con un'analisi esplorativa del database contratti di rete che orora il presidente ci ha sottolineato del database di Union Camera e Nazionale. Quest'analisi è stata approfondita attraverso un'analisi qualitativa che va ad integrare le analisi quantitative attraverso che stadi, interviste in profondità, presidenti della rete stakeholder e un'analisi quantitativa che invece ha analizzato il profilo sia della rete sia dei singoli soggetti coinvolti. Il profilo della rete è stato svolto attraverso una social network analisi, mentre invece il profilo dei soggetti coinvolti è stato fatto con una normalissima analisi uni e multivariata. Ovviamente quello che voi poi troverete all'interno del saggio finale è una combinazione sia dell'analisi qualitativa sia dell'analisi quantitativa. Una slide solo per mettere in luce alcuni aspetti economici del contratto di rete ormai noto. Lo scopo è quello di accrescere la capacità innovativa e competitività del mercato delle singole imprese. Scopo che deve essere misurato, cioè lo stessa normativa prevede il fatto che ci sia una misurazione dei benefici ottenuti sia in termini di incrementi dei propri ricavi sia in termini di riduzione dei propri costi e quindi di un ottenimento di un maggiore profitto. Gli obblighi delle controparti è quello di realizzare un programma comune che può essere o di tipo di rete collaborativa o di rete associativa e le caratteristiche del contratto sono in qualche modo sintetizzabili nel fatto che ci possono essere due o più soggetti nell'aggiornamento della rete da parte dei partner che entrano a farne parte o decidono di uscirne, che è possibile fare un contratto di rete utilizzando settori merceologici differenti, anche se è necessario in questo caso un fine comune. Non ci sono limiti da un punto di vista territoriale e quindi non sono solo più strumenti che possono essere adottati nei distretti veri e propri. Gli obiettivi devono essere sia comuni a tutte le parti sia unidirezionali, quindi una singola unità deve avere un fattore di competitività e si basa su rapporti fiduciari e non gerarchici. A tal fine è necessario anche andare a definire che la stessa normativa prevede una successiva modificazione o successive modificazioni tra cui quella dei cosiddetti regimi speciali, cioè del fatto che un singolo contratto di rete può chiedere un riconoscimento della soggettività giuridica facoltativa e condizionato e grazie a questo riconoscimento della soggettività giuridica può costituirsi un fondo patrimoniale, una sede in una denominazione di rete, un'istituzione di un organo comune che si occupa in qualche modo dei rapporti con l'esterno e un coinvolgimento dell'attività ovviamente da parte di quest'organo comune verso anche attività commerciali. Passo direttamente a una velocissima analisi che può essere sintetizzata attraverso un identikit sia della rete sia dei singoli membri della rete. Allora attualmente i contratti sono 3.210, l'aggiornamento al 3 di settembre, c'è stato nel corso dei 5 anni lo strumento, i primi contratti si sono avuti nel marzo 2010, l'ultimo ovviamente considerano agosto 2016, un'evoluzione che ha portato 300-400 contratti l'anno, la durata media è di 12 mesi, anche se non è possibile andare a stabilire la durata delle singole relazioni, cioè delle singole imprese che operano all'interno della rete. Mediamente il numero di partner coinvolti sono 5, anche se c'è un 25% dei casi in cui ci sono più di 10 partner all'interno di una rete. La diffusione territoriale, come diceva il Presidente, è legata soprattutto al centro nord, cosa che però non ci deve in parte stupire perché in realtà si concentrano maggiormente i tessuti imprenditoriali e le reti sono cosiddette miste, ovvero sono caratterizzate dal fatto che all'interno della rete è possibile individuare una rete sia diversa per settore economico, sia diversa da un punto di vista di forme giuridiche dei soggetti coinvolti. Ed è proprio per questo che è stato importante andare a valutare questi oltre 17.000 soggetti, di questi oltre 17.000 soggetti il 58% costituito da reti di imprese di capitali. esistono tuttavia, perché è concesso dalla stessa normativa, enti morali, fondazioni e associazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale l'attività di impresa. Ci sono delle rarissime reti di contratti di impresa costituiti da soggetti esteri, se non erro sono 8, o da spin-off universitari. Quindi questo ci dimostra come in realtà lo strumento non è solo uno strumento italiano, ma è uno strumento che può essere interessante anche da un punto di vista di partnership, vuoi dell'innovazione spin-off universitari, vuoi di altri centri di ricerca. I settori economici più utilizzati sono sicuramente quello manifatturiero, è presente tuttavia in tutti i comparti del cosiddetto made in Italy, quindi dalla moda all'abbigliamento, altre caratteristiche di punta del nostro settore economico, c'è il 65% delle reti di impresa coinvolge almeno un partner che opera nel comparto dell'high tech, che sia manufatturiero, che sia dei servizi e questo naturalmente dimostra ancora una volta che la scelta delle imprese è legata soprattutto a fare competitività, ma soprattutto all'innovazione vera e propria. Qua nasce un'esigenza in qualche modo di presentare oltre solo un aspetto numerico, anche alcune finalità che nascono dalle interviste in profondità, dalle analisi dei casi. Nei contratti di rete con soggetti solo ed esclusivamente composti dal proprio settore economico, in realtà esistono più finalità che vanno da risolvere problemi comuni, ad avere degli skill da un punto di vista di competenze a migliorare la reputazione, la capacità, a cercare di assumere in qualche modo delle commesse più grandi e quindi una maggiore competitività rispetto alle globali, mentre invece nella presenza dei contratti di rete con soggetti diversi dal proprio settore economico, c'è la volontà soprattutto di avere un prodotto cosiddetto chiave in mano, ovvero un prodotto complesso che viene realizzato ad hoc grazie al fatto di avere dei contatti con i fornitori, con i clienti. Di qui nascono ovviamente alcune riflessioni grazie a queste interviste in profondità e queste analisi di caso. Beh, la finalità principale in tutti e due i casi anche di contratti di rete con caratteristiche diverse di settori economici emerge quello di cercare in qualche modo un'aggregazione grazie all'aggregazione e di migliorare la competitività e l'innovazione. Tuttavia il potere decisionale e solo in parte condiviso da un unico leader normalmente all'interno della rete ci sono dei rapporti fiduciari e si svolgono in qualche modo un network di rete più condiviso. Esiste in qualche modo un problema di coordinamento dove è necessario sovente o viene richiesto un'autorità centrale per migliorare in qualche modo le performance della rete. La patrimonializzazione è ancora ridotta anche se in quei pochi casi il fondo patrimoniale in realtà è abbastanza cospicuo e questo forse è anche esito dal fatto che c'è stata un'evoluzione normativa e solo nel 2012 si è arrivata una rete ovviamente di questo tipo. I programmi sono realizzati soprattutto per l'export, c'è stata questa evoluzione della rete da una rete più leggera dove si inizia in qualche modo a conoscersi, si inizia ad avere una serie di riunioni e di coinvolgimento non legato tanto alla trasformazione del prodotto o alla competizione grazie alle relazioni di prodotti, a una rete più pesante e eventualmente a una trasformazione in centro autonoma. E infine c'è una politica industriale mirata a favorire, almeno sulla carta, ma poi ce lo racconterà meglio Alessandro Terzuolo, credo, il fatto di avere degli incentivi anche fiscali, ma almeno incentivi da parte di enti pubblici. A questo punto possiamo trarre un brevissimo bilancio e qua chiudo. Indubbiamente il contratto di rete è considerato un fortissimo strumento di competitività e innovazione come altri contratti di rete che ci sono, tra cui distretti, consorsi, quindi in realtà si inserisce all'interno di questo panorama in un modo egregio rispetto al fatto di quanto sia piccolo. Ha detto tuttavia degli imprenditori, il contratto di rete è connotato per uno strumento innovativo molto più forte, quasi come un salto culturale, quindi viene vissuto da parte dei partecipanti come un progetto indispensabile per la competitività e l'innovazione. Tuttavia i vari intervistati sono concordi nell'identificare del fatto che non è la penacea di tutti i mali. esistono, vabbè, oltre ai doveri della rete anche il fatto che ci sono risultati diversi a secondo naturalmente dei partner aderenti, c'è una difficoltà oggettiva nel determinare il proprio ruolo all'interno della rete, c'è un lungo tasso, lasso temporale per ottenere i primi risultati ed esiste soprattutto la carenza di skill, cioè sempre di più l'imprenditore necessita di avere dei consulenti per la costruzione di una buona rete e forse di un giudizio finale di questa non panacea di tutti i mali ma di una necessità di formazione, di coinvolgimento, di conoscenza delle reti può essere in parte superata anche grazie a giornate come questa. Grazie dell'attenzione. Grazie professore Sacugno, tutti occupi del nostro master con la LUIS sull'open innovation e quindi diciamo che noi siamo già abbastanza in pista, come si dice, con il ministro dello sviluppo economico, bravissima, tant'è che il convegno di oggi sarà oggetto di una mia richiesta poi al direttore e ai docenti della scuola perché credo che la formazione sul manager di rete, la formazione delle competenze potrebbe essere un tema interessante. Allora sicuramente accordata, nel senso che io sono direttore quindi vedremo di fare una giornata magari replicandola all'interno del master. E' anche una formazione sul mercato perché no, perché c'è bisogno. Ecco quindi l'unione fa la forza, mi piacciono gli interventi del professor Biuchi e della professoressa Cugno che poi declinano in articoli accademici nella nostra rivista perché danno una fotografia dall'alto molto chiara e precisa dei temi di cui dobbiamo parlare ed anche evidentemente c'è delle nozioni anche tecniche. Invece entriamo come di consueto con la dottoressa Maria Caravietti ed entriamo nel tema invece più tecnico che entra nella logica dei contratti di rete ma non solo, quindi delle aggregazioni fra imprese perché queste imprese necessitano di avere consulenti e professionisti che conoscano con estrema precisione e che cosa accade in termini contabili e nelle aggregazioni, quindi in termini di bilancio, di bilanci consolidati, di autonomia dei bilanci all'interno delle singole società e quindi ti lascio la parola sul tema. Grazie, ringrazio per la presentazione. Io ho svolto il corso di dottorato in business management all'Università di Torino e mi sono soffermata su alcuni temi quali anche le aggregazioni tra imprese. Si sente? Nello specifico mi addentrerei subito sull'argomento, sull'aggregazione aziendale che è quella del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è innanzitutto l'obbligo di retazione di questo documento è previsto dal decreto legislativo 127 del 91 che è stata per lunghi anni l'unica fonte normativa ed è stato modificato poi in seguito dal decreto legislativo 139 del 2015. Il bilancio consolidato perché si parla di aggregazione tra imprese? Si parla di aggregazione perché si parla di tante unità giuridiche che vengono rappresentate in un'unica entità economica e il modo di rappresentarle è appunto il bilancio consolidato. Nello specifico l'articolo 25 del decreto legislativo 127 del 91 indica che le società di capitali che controllano un'altra impresa devono redigere questo documento e anche gli enti pubblici, le società cooperative e le mutui assicuratrici che controllano a loro volta una società di capitali. Ma cosa significa effettivamente controllare un'altra impresa? Si rimanda all'articolo 2359 del codice civile dove viene specificato che il controllo può essere innanzitutto un controllo di diritto quindi nel momento in cui una società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società la controlla e questo controllo appunto viene definito controllo di diritto. in secondo luogo nel momento in cui una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in un'altra società e in questo caso si parla di controllo di fatto e in terzo luogo nel caso in cui vi stiano dei vincoli contrattuali. Nello specifico l'articolo 26 del decreto legislativo 127 del 91 indica che la possibilità di controllo contrattuale è data dal fatto anche solo di avere un'influenza dominante in virtù di una clausola statutaria o in virtù di determinati accordi tra i soci. in tutto questo diciamo in realtà è intervenuto anche vi è anche la possibilità di essere exonerati dalla redazione di questo documento e nello specifico è stato modificato proprio da poco il decreto legislativo 127 con il 339 del 2015 in cui viene a specificarsi la possibilità di essere exonerati e in particolare nel caso in cui ci siano due imprese vi sia la controllante che insieme alla propria controllata superi per due esercizi consecutivi due di questi limiti è possibile l'esonero. Questi limiti quali sono? 20 milioni di euro per quanto riguarda la somma degli attivi della controllante e della controllata 40 milioni di euro per quanto riguarda la somma dei ricavi del totale dei ricavi della controllante e della controllata e 250 dipendenti non solo è possibile essere exonerati anche qualora una società controllata che i cui soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale non abbiano chiesto nei sei mesi precedenti la redazione di un consolidato e questa società controllata sia controllata da un'altra società che effettivamente redige il consolidato e redige il consolidato secondo le norme del diritto di uno stato membro o secondo i principi contabili internazionali non solo nel momento in cui la società controllata non abbia emesso dei titoli quotati in borsa in questo caso però la società controllata dovrà dare informativa dell'esonero in nota integrativa vorrei fare adesso un accenno a quelli che sono i principi contabili utilizzati all'interno di un bilancio consolidato perché in Italia l'organismo italiano di contabilità ha emanato l'OIC17 che viene applicato al bilancio consolidato secondo i criteri di controllo di cui ho appena trattato secondo l'articolo 2359 e il decreto legislativo 127 del 91 ma esistono degli altri principi che sono i principi contabili internazionali e nello specifico per quanto riguarda il bilancio consolidato l'IFRS 10 che ha sostituito l'OIAS 27 che indica il controllo in un modo diverso indica il controllo come un rapporto tra l'investor e l'investì quindi non si parla più di maggioranza di diritti di voto ma si parla di quando l'investor sia esposto a rendimenti variabili o detenga diritti su questi rendimenti o ancora abbia la capacità di influenzare questi rendimenti i rendimenti non sono altro che gli utili, i dividendi e la possibilità di raggiungere economie di scala nel momento in cui si controlla un'altra società volevo fare questo raffronto perché è sempre importante comunque considerare anche ciò che succede a livello internazionale e poi anche in realtà in Italia perché non tutte le molte società ormai vengono rappresentate secondo i principi contabili internazionali mi addentrerei ora in quella che è l'area di consolidamento abbiamo detto che nel bilancio consolidato rientreranno quelle che sono le società controllate ma non solo rientreranno anche le società partecipate quelle società in cui la capogruppo ha un'influenza notevole e poi le società le joint venture ovvero quelle società che sono controllate con un controllo congiunto i metodi di consolidamento poi utilizzati nel bilancio consolidato sono quello integrale che prevede un consolidamento di tipo analitico ovvero line by line significa che tutte le attività e tutte le passività di una società controllata vengono effettivamente riportate riga per riga all'interno del bilancio consolidato mentre invece un differente equity method utilizzato e indicato dall'OIC17 quale metodo di utilizzazione appunto per la contabilizzazione delle società che si rimanda poi all'articolo 36 del 127 del 91 che rimanda a sua volta all'articolo 2426 numero 4 del codice civile che dà la possibilità appunto di utilizzare questo tipo di metodo che è un metodo attraverso cui avviene un consolidamento di tipo sintetico ovvero tutto ciò che prevediamo nel consolidamento integrale avviene a livello di singola partecipazione una società controllante che ha una partecipazione in una controllata valutandola col metodo del patrimonio netto non iscrive solo quella partecipazione al costo di acquisto ma va a effettuare tutte le rettifiche che sarebbero quelle da effettuare in caso di un consolidamento integrale quindi va a rettificare i dividendi quindi va ad eliminare i dividendi va a rettificare nel caso in cui ci sia stata un utile una perdita dell'esercizio e effettua questa rettifica direttamente sulla partecipazione quindi la partecipazione avrà un valore più aggiornato rispetto al costo originario chiaramente perché io ho apportato tutte quelle che sono state le variazioni avvenute fino ad oggi il metodo proporzionale in ultimo è il metodo contabilizzato utilizzato per la contabilizzazione delle joint venture proporzionale significa che normalmente nel momento in cui si ha un controllo congiunto si ha solitamente il 49% il 50% in un'altra società e questo la contabilizzazione avvene proprio proporzionalmente quindi tutte le attività e le passività della joint venture verranno attratte in bilancio in modo proporzionale al 49% ad esempio mi addentrerei a questo punto nel fare un esempio di consolidamento integrale perché è quello rilevante all'interno di un bilancio consolidato poniamo il caso di avere una società A che abbia una partecipazione di controllo in una società B e un costo di acquisizione della partecipazione di 500 la società A quindi ha comprato questa partecipazione a 500 per un patrimonio netto che vale 800 avendo il 70% ha il controllo ma il 70% di 800 fa 560 quindi ad oggi che poniamo il caso sia passato un anno dall'acquisizione di questa partecipazione io ho comprato una partecipazione a 500 che mi vale 560 quindi posso aver effettivamente fatto un buon affare quindi nel caso in cui io l'abbia comprata di meno e effettivamente questa valga di più iscriverò questo 60 nel mio patrimonio netto in una riserva definita riserva da consolidamento caso contrario in cui ho comprato questa partecipazione ma in realtà non ho fatto un buon affare l'ho comprata di meno perché sapevo già che avrei avuto poi delle perdite future devo iscrivere un fondo un fondo di consolidamento ma per rischi futuri a parte questa differenza negativa di consolidamento la prima scrittura da effettuare è fondamentale perché comporta l'eliminazione della partecipazione quindi la società A che ha effettivamente un diritto sulla società B e sul capitale della società B deve eliminare la propria partecipazione in contropartita di ciò che quella partecipazione effettivamente rappresenta che non è altro che una fazione di patrimonio netto della controllata inoltre ciò che è anche necessario rilevare sono le interessenze di terzi perché il patrimonio netto di 800 abbiamo detto che è al 70% della mia controllante ma il rimanente 30% non è di proprietà di A è di proprietà di qualcun altro questi altri vengono definiti soci di minoranza dalle C17 e forse meglio definiti dagli FRS 3 che definisce questi interessi queste interessenze di terzi non controlling interest perché come abbiamo detto prima il controllo può esserci anche non per forza in virtù di una maggioranza di voti esercitabili ma anche in caso di clausole statutarie di accordi tra soci quindi forse gli FRS li definisce meglio la cosa importante da pensare che nel momento in cui guardiamo un bilancio consolidato se vediamo scritto capitale e riserve di terzi capiamo che quell'importo non è di proprietà della controllante quindi non è effettivamente di proprietà di A ma è di qualcun altro che appunto ha dei diritti su questo capitale anche la stessa cosa vale per l'utile di terzi che bisogna rilevarlo appunto l'utile di A di competenza dell'esercizio non è tutto l'utile di B non è tutto di competenza di A ma chiaramente il 30% appartiene ai terzi vi sono ancora poi tante rettifiche da effettuare in caso di bilancio consolidato una rettifica importante quella che riguarda l'elisione dei crediti dei debiti infragruppo cosa significa? significa che durante l'anno è possibile che la controllante insieme alla controllata abbiano effettuato delle vendite quindi delle operazioni tra di loro ma se io vado a fare un bilancio consolidato in cui devo rappresentare un'unica entità partendo da più entità giuridiche però un'unica entità non posso pensare che quest'unica entità si scambi e si venda le merci con se stessa quindi chiaramente dovrò andare a delidere tutte quelle che sono state le operazioni realizzate nell'anno non solo dovrò anche nel caso in cui avessi un utile interno e che cos'è un utile interno? un utile interno viene realizzato nel momento in cui la mia controllante ha venduto ad esempio delle merci alla mia controllata realizzando un utile e la mia controllata non abbia a sua volta venduto queste merci all'esterno in questo caso vado a consolidare due società in cui una ha realizzato un utile vendendo delle merci all'altra ma l'altra non le ha rivendute all'esterno quindi avrò un'unica entità in cui ci sono sia le merci che l'utile ovvero chiaramente non è possibile effettuare una vendita con se stessi e quindi anche in questo caso andrà eliminato l'utile l'utile realizzato da questa vendita perché sono le merci in magazzino non posso realizzare l'utile sulla vendita lo stesso per quanto riguarda i dividendi quindi non è possibile pensare che una società controllata che abbia distribuito i dividendi alla controllante li mantenga vengano mantenuti questi dividendi nel bilancio consolidato anche in questo caso si parla chiaramente di una sovrapposizione un rigonfiamento di bilancio quindi se diciamo uno utilizza il buon senso va a considerare il fatto che in un bilancio consolidato chiaramente andranno elise tutte quelle operazioni che non hanno modo di esistere se si pensa ad un'unica entità economica mi sono già ridilungata abbastanza passerei a questo punto al secondo argomento che è quello relativo ai consorzi e dando giusto un riferimento normativo perché dal punto di vista giuridico penso che ne parleranno altri ma direi che per quanto riguarda i consorzi l'articolo 2602 del codice civile delinea questa fattispecie quale organizzazione comune che viene formata da più imprenditori che decidono di collaborare e quindi di collaborare nel proprio interesse nel realizzare l'interesse dei consorziati il consorzio è uno strumento che non ha uno scopo di lucro e viene appunto realizzato per ottenere dei vantaggi stessi per i consorziati esistono vari tipi di consorzi mi soffermerei su quelli con attività esterna perché i consorzi con attività esterna disciplinati poi dell'articolo 2612 e seguenti del codice civile a questi tipi di consorzi l'articolo 2615 bis del codice civile indica che entro due mesi della chiusura dell'esercizio coloro i quali che hanno la direzione del consorzio devono redigere una situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio d'esercizio di una società per azioni molti pensano che la situazione patrimoniale sia semplicemente uno stato patrimoniale no per situazione patrimoniale redatta secondo le norme previste per una società per azioni si parla effettivamente di un bilancio quindi si parla di stato patrimoniale si parla di conto economico e si parla di nota integrativa che devono essere appunto redatti da coloro i quali dirigono il consorzio il consorzio con attività esterna perché deve redigere un bilancio? beh sicuramente perché appunto ha dei rapporti con i terzi a differenza del consorzio con attività interna il consorzio con attività esterna ha un ufficio destinato proprio al rapporto con i terzi e quindi è necessario anche tutelare questi terzi e qua entrano in gioco determinate fatti specie che sono proprie del consorzio ovvero la necessità di creazione ad esempio del fondo consortile elemento fondamentale all'interno di un consorzio infatti per ciò che concerne il fondo consortile viene creato ma attraverso dei contributi dati dei soci a livello straordinario e iniziale proprio per realizzare l'oggetto sociale ma anche per essere una tutela nei confronti dei terzi vediamo questa scrittura contabile che è cassa fondo consortile che è una scrittura che viene effettuata nel momento in cui si costituisce il consorzio e questo fondo consortile va proprio a tutelare i terzi non viene dato in realtà un importo minimo del fondo consortile comunque la sua funzione è quella delineata vediamo che ci sono anche delle voci particolari quali i contributi dei consorziati i contributi dei consorziati a differenza del fondo consortile sono un qualcosa di ordinario ovvero i consorziati ordinariamente versano dei contributi per coprire quelli che sono i costi di gestione del consorzio quindi per evitare sostanzialmente che a volte si realizza però quello che ordinariamente viene fatto è versare questi contributi per fronteggiare i costi e evitare un disavanzo nel caso specifico in cui si realizzi un disavanzo cosa succede? è necessario in primo luogo ripianare questo disavanzo e può essere fatto dai soci chiaramente attraverso i propri contributi oppure nel caso in cui non si vogliano versare subito in cassa non si voglia versare subito in cassa la copertura di questo disavanzo si può decidere di registrare dei crediti verso consorziati nello stato patrimoniale attivo e in questo caso in contropartita dei contributi il consorzio avrà scusate la seconda scrittura avrà un chiaramente al posto della cassa immaginatevi i crediti verso consorziati che verranno poi iscritti nello stato patrimoniale attivo che vediamo come prima voce ecco in questo caso il consorzio ha dei crediti nei confronti dei consorziati che dovranno essere versati chiaramente per ripianare questo disavanzo farei solamente un accenno a questo punto a quella che è la società consortile perché vi è la possibilità per un consorzio di perseguire lo scopo consortile anche in forma societaria vi è però un grande dibattito per quanto riconcerne la disciplina che si applichi in questi casi ovvero nel caso in cui un consorzio si presenti sotto forma di una società la dottrina maggioritaria ritiene che la peculiarità dello scopo consortile non possa incidere sul tipo di società prescelta quindi se si sceglie di il vestito di una società ad esempio di una società di capitali si seguono le norme della società di capitali e in nessun modo diciamo lo scopo consortile può modificare queste norme o andare a derogare queste norme la seconda parte della dottrina invece ritiene che lo scopo consortile possa essere perseguito anche in forma societaria ed è una disciplina mista secondo cui dovrebbero essere utilizzati da un punto di vista formale le norme previste per il tipo di società scelto mentre invece dal punto di vista sostanziale le norme previste sul consorzio in realtà poi l'ordinamento giurisprudenziale maggioritario si è espresso favorendo questa seconda questa disciplina mista quindi la possibilità effettiva di presentarsi sotto una forma societaria e quindi stante appunto la causa consortile nello specifico la Cassazione con il 4 novembre del 1982 ha diciamo ha inserito ha appoggiato questa seconda disciplina dicendo che nel caso di società consorzio rimangono interamente applicabili le esposizioni sul consorzio appunto anche nel caso in cui si utilizzi questa forma la forma di tipo societario in modo diverso si è espressa poi la Cassazione il 27 novembre del 2003 ma vi sono poi ancora altre sentenze che favoriscono questa disciplina comunque la questione è ancora molto aperta io mi sono soffermata su questo argomento provando a fare una ricerca ma appunto rimane ancora abbastanza aperta arriverai così all'ultimo argomento che è quello che concerne le reti di impresa e dando qualche profilo sulla loro rappresentazione contabile quando si parla di rete di impresa si parla di più imprenditori che decidono di essere più competitivi e più innovativi sul mercato e quindi per questo cercare di agire in modo collettivo per essere più competitivi ma quando si parla di rete di impresa bisogna distinguere tra due tipi di reti che sono la rete soggetto e la rete contratto quando si parla di rete soggetto si parla effettivamente di un soggetto giuridico quindi di un fondo patrimoniale un organo comune di un soggetto che è iscritto al registro delle imprese e che quindi appunto ha una sua soggettività giuridica al contrario quando si parla di rete contratto si parla effettivamente di un contratto quindi si parla di più imprenditori che decidono di agire collettivamente ma effettivamente poi redigono un contratto e questo diciamo non è un soggetto giuridico non ha una soggettività non è iscritto al registro delle imprese quindi questi imprenditori come agiranno effettivamente nel momento in cui dovranno vendere dei beni ai terzi acquistare dei beni da terzi come opereranno dunque mentre in caso di rete soggetto è necessario redigere ed è richiesta la redazione di una situazione patrimoniale come secondo le norme previste per una società per azioni e come abbiamo visto prima nel caso di un consorzio quindi entro due mesi della chiusura dell'esercizio è necessario redigere depositare questa appunto una situazione patrimoniale in caso di contratto invece no non è richiesta una situazione patrimoniale se non nel caso in cui la rete non abbia un fondo patrimoniale e non abbia anche un organo comune in quel caso è necessario presentare una situazione patrimoniale e nello specifico bisognerà individuare un'impresa tra i retisti di riferimento che si occuperà di depositare il bilancio della rete nel registro delle imprese in cui ha la sede il problema però appunto permane ovvero chi effettivamente deve rappresentare i fatti amministrativi e giuridici all'interno di una rete contratto vi sono due opzioni una è quella per cui si chiede ad esempio ad un fornitore di effettuare tante fatture quanti sono i retisti all'interno della rete capite bene che andare a chiedere ad un fornitore di fare tante fatture quanti sono i retisti e pro quota secondo la quota di ogni retista il fornitore non so quanto possa essere d'accordo quindi quello che avviene solitamente è quello di individuare un'impresa che è diversa dall'impresa di riferimento che ha la necessità di depositare il bilancio ma è un'impresa capofila e questa impresa capofila in sostanza va a effettuare tutti quelli che sono i fatti giuridici e amministrativi per conto dei retisti iscriverà in bilancio dei conti transitori dei conti transitori realizzati appunto per conto della rete e il nome per conto dei retisti e poi andrà a chiaramente effettuare delle rettifiche a questi conti transitori dopo aver imputato tutte chiaramente pro quota le varie operazioni e singoli retisti io per concludere mi è capitato il caso di un'impresa di rete in particolare un'impresa di rete agricola e effettivamente la cosa importante poi da fare è quello di stabilire un adeguato programma di rete perché il problema effettivo in una rete contratto è quello di avere molti retisti che vogliono creare questa rete ma che poi alla fine appunto essendo un contratto è necessario delineare in modo accurato e preciso chi e a che compiti all'interno della rete perché se no parte la rete già in modo sbagliato e si inceppa già da subito perché appunto è importante all'interno della rete più che mai e soprattutto della rete contratto stabilire un programma molto preciso e dettagliato perché se no appunto i retisti iniziano a litigare tra di loro e iniziano ad esserci problemi io passerei la parola grazie bravissima grazie dottore Savietti allora il professor Terzuolo chiediamo invece di individuare in qualche modo spacchettare con noi nell'ambito dell'aggregazione di imprese gli aspetti fiscali la competitività di un sistema del resto professore soprattutto del sistema italiano oserei dire è strettamente connessa nel raggiungimento degli obiettivi importanti che le imprese massimizzano rispetto alle loro competenze sul mercato l'aspetto fiscale e quindi le passo la parola grazie grazie della parola prima di iniziare sicuramente l'aspetto fiscale è stato una variabile di sviluppo nella fattispecie dello strumento delle reti di impresa che poi in un certo modo è venuto meno ma adesso poi entreremo più nel dettaglio volevo innanzitutto ringraziare l'avvocato Maiorino e anche il professor Quattrocchio per il coinvolgimento in questo convegno cosa che mi fa molto piacere e inizierei a delineare meglio i termini del mio intervento nel senso che gli aspetti fiscali di questo insieme differente di strumenti giuridici e di forme giuridiche che può essere racchiuso sotto la terminologia delle aggregazioni di impresa è un ambito molto ampio dal punto di vista fiscale quindi per ragioni di tempo ho dovuto sintetizzare questa parte di comparazione dando più spazio invece allo strumento della rete di impresa un po' perché lo ritengo quello forse più interessante in quanto anche più di recentemente innovato dal legislatore un po' perché mi permette di poi sviluppare la comparazione con più forse avendo già fornito alcuni aspetti diciamo metodologici detto questo la breve premessa cosa ho inteso e cosa andremo ad analizzare per aggregazioni di imprese andremo ad analizzare una serie di tipologie strumenti giuridici in cui viene creato un centro di interesse comune che può anche non avere soggettività giuridica e quindi soggettività tributaria ma a cui diverse imprese appunto fanno fanno riferimento cosa diversa invece sono gli strumenti sempre in ambito tributario che il legislatore offre ma nell'ambito dei gruppi di impresa cosa voglio dire con questa distinzione da un lato abbiamo ad esempio lo strumento delle reti di impresa dei consorzi piuttosto che dell'associazione temporanea di imprese dove la individualità dei soggetti viene superata attraverso una nuova entità la chiamo ancora con un termine così improprio a differenza invece delle opzioni a cui faccio riferimento che sono il consolidato fiscale nazionale consolidato fiscale mondiale e l'opzione per l'IVA di gruppo che identificano una base imponibile di gruppo poi con differenti articolazioni a seconda che il gruppo sia nazionale o abbia delle caratteristiche sovranazionali quindi questo è un primo aspetto un primo distinguo che va effettuato per ragioni di tempo dicevo non andrò a trattare queste opzioni che il legislatore ha messo negli anni a disposizione dei contribuenti bene al di là di un breve riepilogo dei dati che al di là della correzione sono aumentate nel frattempo queste reti sono diventate 3201 se ho capito bene comunque rimane corretto il dato delle reti soggetto che ci ovviamente è un dato particolarmente interessante per gli aspetti tributari per quello che vi andrò a spiegare andrò così a trattare tra poco altri strumenti poi forse ne ho dimenticato uno ma vi spiego anche il motivo che il legislatore consente dal punto di vista giuridico a queste più soggetti economici che decidono di appunto unire le proprie forze le proprie competenze per sviluppare un progetto superiore abbiamo ovviamente i consorzi e eventualmente nella forma delle società consortili le associazioni temporanee di impresa come vi accennavo poco fa i gruppi economici di interesse europeo e le joint venture non ho inserito l'ambito dei distretti in quanto devo dire purtroppo almeno sotto il profilo del convegno di oggi le agevolazioni fiscali che erano state concesse sono poi state ormai rimosse con la finanziaria 2014 quindi non abbiamo più una utilità dal punto di vista tributario nel trattare questo argomento mi addentro quindi cercando di rispettare i tempi nell'ambito delle reti di impresa con un riepilogo appunto di riferimenti normativi che serve più che altro a capire come la disciplina sia stata oggetto di diverse modifiche questo non è mai piacevole dal punto di vista degli operatori economici in ambito tributario perché evidentemente può comportare scelte e comportamenti da parte appunto degli operatori che devono poi essere rivisti in corso d'opera su progetti complessi in cui abbiamo visto il numero medio di imprese coinvolte e di 5 imprese quindi andare poi a cambiare anche eventualmente accordi già presi con più soggetti può risultare particolarmente complesso in realtà l'ultima modifica in ordine temporale seppure non citi la rete di impresa o le reti di impresa dal punto di vista tributario che cosa che in altri casi capita come ad esempio per i consorzi tuttavia è stata un'innovazione di grande portata perché conferendo ad alcuni tipi di rete e vediamo le reti che sono dotate di un fondo patrimoniale comune quindi per cui si è previsto questo fondo patrimoniale e che decidano volontariamente quindi non hanno l'obbligo ma decidano di iscriversi al registro delle imprese così come esito di questa di questa scelta acquisiscono soggettività giuridica e dal punto di vista tributario acquisiscono anche la condizione appunto di soggetto passivo di imposta autonomo per cui in seguito all'innovazione civilistica anche la normativa tributaria ha subito un importante impulso sebbene l'abbiamo visto dai dati 438 su 2100 rimane un numero ancora abbastanza limitato sarà poi interessante vedere le evoluzioni da questo punto di vista dicevo la distinzione già in parte trattata dalla dottoressa Vietti è quella tra le cosiddette reti contratto e le cosiddette reti soggetto io mi concentro chiaramente sui punti sui profili tributari della questione trattando in primo luogo le reti soggetto che appunto per quello che vi accennavo sinteticamente prima hanno acquisito questa soggettività passiva autonoma questo ha delle conseguenze molto rilevanti in ambito di imposizione diretta e anche in ambito di imposizione indiretta quindi nel momento in cui le reti sono ricomprese nei soggetti passivi Ires in questa fattispecie andiamo poi a distinguere le reti che pur avendo effettuato l'iscrizione al registro imprese quindi pur essendo diventate reti soggetto possono avere un'attività commerciale come possono avere un'attività non commerciale quindi andiamo a dettagliare una sottocategoria all'interno delle reti soggetto dal punto di vista invece IVA che poi è uno degli aspetti più rilevanti dal punto di vista pratico la rete soggetto diventa un soggetto passivo IVA e quindi questo avrà tutta una serie di conseguenze che non sto a riepilogare ma che insomma ben conoscete dicevo per fornire bene anche i riferimenti normativi il comma secondo dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede appunto in una norma in una previsione residuale l'inserimento di una rete come la rete soggetto appunto perché viene inclusa tra le organizzazioni che non appartengono ad altri soggetti passivi ovviamente in cui il presupposto di imposta si verifica in modo unitario ed autonomo autonomo quindi deriva dalla appunto soggettività giuridica e unitario proprio dalla dotazione del fondo patrimoniale e da tutte le statuizioni del contratto del contratto di rete questo è il primo il primo aspetto analizziamo le due sottocategorie ossia la prima quella del dell'attività commerciale esercitata dalla dalla rete soggetto che la include sostanzialmente appunto nei soggetti passivi i res quali per fare un esempio molto lampante le società di capitali con tutte le disposizioni che regolano dal punto di vista tributario la materia in questione quindi andiamo ad attingere a un set giuridico di norme molto ben consolidato molto articolato peraltro con tutta una serie di agevolazioni o di devo dire anche molto spesso di così limitazioni nella possibilità di dedurre costi in varie modalità detto questo quindi per le reti soggetto con attività commerciale andiamo anche dal punto di vista tributario su argomenti molto ben noti devo dire al mondo professionale quindi questo sicuramente può essere un incentivo anche per i colleghi che decidano di consigliare questo strumento ai loro clienti dall'altro punto di vista invece se la rete soggetto ha un'attività non commerciale in misura esclusiva o prevalente avremo invece un altro asset normativo altrettanto ben consolidato che è quello sempre previsto dal nostro testo unico delle imposte sui redditi per gli enti non commerciali residenti quindi articoli dal 143 e seguenti che ho sinteticamente citato ovviamente lo dico soprattutto per chi comunque ha confidenza con il diritto tributario l'attività non commerciale quindi la qualifica di rete soggetto con attività non commerciale non implica non vieta che la rete soggetto possa svolgere in misura non prevalente un'attività commerciale quindi potrà esserci a margine sempre che non superi di fatto la maggioranza dell'attività della rete un'attività commerciale più ridotta con regole particolari ancora due aspetti sempre sulla rete dotata di soggettività tributaria quindi la rete soggetto dal punto di vista IRAP è stato in virtù del richiamo normativo quindi della soggettività giuridica è stato incluso anche lo strumento della rete soggetto nei soggetti passivi IRAP nella fattispecie all'articolo 3 del decreto legislativo IRAP dal punto di vista IVA invece ci rifacciamo alle norme sull'attività commerciale o l'attività non commerciale la rete soggetto anche in questo caso ha quantomeno verifica il requisito il presupposto soggettivo e potrebbe verificare anche gli altri presupposti quindi il presupposto territoriale e il presupposto oggettivo quindi sostanzialmente si comporta come figure ben note agli operatori in ambito tributari qualora eserciti poi l'attività commerciale sarà tenuta all'obbligo scusate sarà obbligata alla tenuta delle scritture delle scritture contabili e quindi andiamo a di fatto semplificare notevolmente l'attività anche di chi dovrà trovarsi a gestire dal punto di vista amministrativo la rete soggetto la rete contratto che abbiamo visto continua a essere molto molto diffusa poi potrò dare così una mia opinione su anche il perché di questa diffusione dal punto di vista evidentemente delle agevolazioni fiscali comunque è uno strumento sicuramente diffuso che lascia una serie di scelte alle imprese retiste nel senso che l'amministrazione qui la norma di fatto non ha preso non ha deciso di trattare l'argomento delle reti delle reti contratto quindi ci si chiede in dottrina se una rete contratto possa o meno avere una soggettività tributaria l'amministrazione che devo dire si è trovata poi a dover supplire a una mancanza del legislatore ha così ritenuto che la soggettività tributaria non sia mai propria di una rete contratto questo sicuramente apprezzabile dal punto di vista pratico perché semplifica notevolmente l'operatività del contribuente dal punto di vista così teorico accademico è un po' una semplificazione forzata nel senso che dipende poi dai casi perché la stessa rete contratto potrebbe avere una struttura e una modalità organizzativa in termini di autonomia indipendenza tale da in realtà realizzare appunto una soggettività tributaria ma lo direi sottovoce nel senso che questa incertezza sulla soggettività tributaria crea poi dei problemi notevoli che vedrò sinteticamente sull'ambito delle associazioni temporanee di impresa sempre in ambito di certezza poi del diritto per gli operatori che si trovano a dover effettuare delle scelte in termini di imposizione sui redditi e anche di imposte indirette abbiamo chiaramente dei risvolti questo in continuità con quello che veniva già detto prima dalla dottoressa Vietti quindi la rete contratto ha una duplice scelta ossia quella di di fatto risultare completamente trasparente ai fornitori piuttosto che ai clienti dove ci sia un'attività con dei clienti finali e quindi le fatture verranno emesse dalle singole imprese rettiste o verranno ricevute dalle singole imprese rettiste pro quota a seconda di quello che è stato stabilito nel contratto di rete oppure viene nominata un esecutore anche dal punto di vista tributario quindi un'impresa capofila cosiddetta che si occupa di fare da tramite con tutte le altre imprese anche sotto l'aspetto amministrativo questo però alle volte può risultare complesso perché in questo caso pensiamo a un importante database di clienti l'impresa capofila acquisisce magari una serie di informazioni commerciali su clienti non direttamente non direttamente suoi quindi questo dipende poi anche dalla sensibilità delle imprese e da chi li aiuta a redigere il contratto di rete è un aspetto che va comunque considerato dal punto di vista delle altre imposizioni quindi l'imposizione indiretta alcuni commentatori hanno ritenuto che i beni di cui viene dotata la rete pur in presenza di rete contratto quindi senza una soggettività giuridica sono in qualche modo sottostanno a un vincolo di destinazione vincolo di destinazione che in ambito poi della disciplina indiretta quindi imposte di successione e donazione ha un significato particolare tuttavia anche la stessa amministrazione finanziaria per adesso ha ritenuto che essendo atti privi di contenuto economico perché le imprese non alienano non si spogliano di un bene o di alcune disponibilità economiche ma le vanno a sottoporre a questo vincolo di destinazione appunto che sono le finalità del contratto di rete che devono ben essere evidenziate appunto nel contratto stesso per cui in questo caso anche i rapporti giuridici e tributari dal punto di vista anche della fatturazione sono molto semplificati e non vi è nessuna imposizione tornando ancora un attimo indietro invece alla rete soggetto tutte le dotazioni che le imprese retiste decidono di assegnare al fondo di dotazione patrimoniale della rete vengono trattate sempre secondo interpretazione devo dire in questo caso anche condivisibile dell'amministrazione secondo delle partecipazioni in un soggetto passivo IRS quindi semplificano agli operatori poi tutta una serie di valutazioni quindi qui riepilo quindi scusate questa parentesi ma volevo solo fare un primo confronto tra le reti soggetto e le reti contratto come vedete la disciplina tributaria per quanto incomincia ad avere dei lineamenti chiari ha ancora delle complessità non indifferenti e dicevo dal punto di vista invece della rete contratto abbiamo questa doppia scelta sia a centrare tutto sull'impresa capofile oppure andare a riferire pro quota tutte le operazioni sia in termini di imposte dirette quindi costi e ricavi quanto anche dal punto di vista IVA non è direi per il professionista o comunque l'operatore che si trovi a lavorare in una situazione del genere con una rete contratto non è indifferente anche considerare la responsabilità dei soggetti dal punto di vista tributario nel caso in cui ci sia un'impresa capofila oppure non ci sia agevolazione fiscale qui ahimè parliamo di qualcosa che non c'è più quella almeno per cui forse c'è stato il maggior impulso dal punto di vista delle reti delle reti di impresa perché non è stata rinnovata l'agevolazione che prevedeva una detassazione o quantomeno una sospensione d'imposta degli utili che le imprese rettiste andavano a destinare appunto alla rete per lo svolgimento delle proprie finalità questo questo tipo di agevolazione innanzitutto è stato chiarito sempre dall'amministrazione finanziaria mi spiace fare riferimento a delle circolari però in assenza della norma diciamo è una una fonte di prassi che quantomeno deve essere considerata è stato escluso la rete soggetto dal potere usufruire di questa agevolazione almeno quando ripeto questa agevolazione era vigente e per questo prima accennavo potrebbe esserci stato un incentivo alla rete alla rete contratto invece che alla rete soggetto per la verità il periodo è stato abbastanza breve perché l'innovazione normativa del 2012 e l'agevolazione è stata valida fino al 2013 quindi non abbiamo non credo ci sia stato tutto questo tempo per ragionare anche su questi profili ad oggi però vediamo le reti di impresa continuano a crescere quindi vuol dire che l'incentivo tributario tutto sommato non era poi così determinante certamente gradito ma non è una variabile determinante ultimo aspetto prima di passare poi sinteticamente a un po' di un po' di comparazione e questo ve lo lascio poi nelle slide un incentivo per le reti di impresa che producono prodotti agricoli di pesca e acquacultura per un 40% di credito d'imposta delle spese sostenute appunto per lo sviluppo di o nuovi prodotti o nuove pratiche e tecnologie quindi questo sicuramente è un tema da considerare il mondo agricolo storicamente è un mondo molto fertile scusate il gioco di parole per quelle che sono le forme di cooperazione di impresa e quindi anche il tema delle reti sicuramente può essere interessante da proporre a queste tipologie di attività veniamo adesso molto sinteticamente a un confronto appunto con gli altri strumenti che il legislatore offre dal punto di vista giuridico abbiamo i consorsi che si dividono poi sostanzialmente questa è la forma più simile dal punto di vista poi tributario da cui probabilmente si è tratto spunto per la qualificazione appunto fiscale abbiamo consorsi che possono avere attività commerciale o attività non commerciale solitamente si identificano in consorsi con attività esterna o con attività interna e quindi sottostanno alle norme che di fatto ho già sinteticamente trattato prima i consorsi poi sono esplicitamente citati negli articoli che identificano appunto i soggetti passivires quindi non abbiamo dubbi da questo punto di vista per quanto riguarda invece le società consortili seguono almeno questa è stata consolidata opinione del nostro legislatore la forma societaria scelta quindi a seconda che si scelga la società di persone o la società di capitali si avrà una differente tassazione aspetto più problematico quantomeno per l'evoluzione giurisprudenziale o l'evoluzione poi nella dinamica dei controlli è stato in ambito di associazioni temporane e di imprese nel senso che solitamente queste associazioni non hanno queste aggregazioni scusate non hanno una soggettività tributaria autonoma ma qui la stessa amministrazione ma anche la dottrina in parte hanno ritenuto che debba essere fatta una valutazione caso per caso sull'autonomia dell'organizzazione quindi se vi siano se le imprese mettano in pratica un comportamento unitario indistinto quindi che superi quando superi la singola individualità quando ci si rapporta appunto come atti con magari il cliente principale e questo può essere sintomo appunto di una soggettività tributaria la soggettività tributaria comporta una serie di valutazioni molto rilevanti quindi pensare di non avere soggettività tributaria e poi scoprire in sede di verifica da parte dell'amministrazione che l'amministrazione considera una soggettività tributaria crea notevoli problemi anche perché viene solitamente dall'amministrazione considerata un'assimilazione alla società di fatto cosa che comporta poi una tassazione senza entrare troppo nel dettaglio con il meccanismo della trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir mentre potrebbe essere invece anche opinione diffusa della dottrina considerare questa autonomia organizzativa quindi questa soggettività tributaria in analogia con i consorzi e quindi con quello che dicevamo prima dal punto di vista del soggetto passivo IRS vi ho citato questa sentenza della Corte di Cassazione che invece ritiene che non vi sia la possibilità di avere una soggettività tributaria e quindi vedete che leati appunto hanno una serie di problematiche che devo dire la rete di impresa non ha quindi potrebbe essere una delle variabili di scelta nel senso che se si decide di utilizzare la rete soggetto non avremo una serie di problematiche dal punto di vista dell'incertezza tributaria ultimi due aspetti e poi veramente ho concluso il GEIE e le Joint Venture il GEIE non è un soggetto autonomo scusate passivo d'imposta quindi determina autonomamente il reddito imponibile deve includere un soggetto non residente ma residente nell'Unione Europea e può includere anche non solo imprenditori ma professionisti questa differenza della rete è un aspetto che mi sembrava opportuno sottolineare insomma visto il contesto però il reddito imponibile viene poi di fatto ripartito ai singoli membri del gruppo di interesse economico e quindi c'è un meccanismo di chiara trasparenza soggetto passivo IVA quindi con tutta una serie di obblighi di fatturazione di dichiarazione mentre non è un soggetto passivo IRAP o meglio determina anche in questo caso la base imponibile del gruppo economico e poi la va a ripartire secondo le quote dell'accordo sulle singole imprese che ne fanno parte ultimo aspetto quello delle joint venture qui abbiamo due categorie macro categorie quelle delle corporate joint venture e quella delle contractual joint venture il primo tipo è quello che crea meno problematiche nel senso che trattandosi appunto di una scelta di uno strumento societario l'identificazione tributaria è molto agevole segue quello che è già noto insomma nel settore ordinario la joint venture contrattuale invece può creare più problematiche potrebbe addirittura andare a presentare le stesse problematiche di soggettività tributaria con annessi obblighi dichiarativi che abbiamo sinteticamente visto per lati ovviamente la joint venture include più che ovviamente molto spesso include un soggetto estero quindi dovremmo considerare anche una serie di aspetti quali la stabile organizzazione e la residenza fiscale della joint venture io direi che ho concluso vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie avvocato Rostagno invece ci parli delle aggregazioni negli appalti pubblici mi sembra che la normativa agevoli sempre di più sempre di più sulla piccola media impresa intanto ringrazio per il gentile invito e dovendo come dire introdurmi un argomento che di per sé è mastodontico cercherò prima di tutto di dare delle linee come dire di navigazione intanto in questo settore intendendo come appalti pubblici gli affidamenti pubblici e quindi sia gli appalti che le concessioni questo è importante perché poi vedremo che ci sono anche delle discipline differenti e da tenere presente che le aggregazioni possono essere distinte fra aggregazioni non equiti e equiti perché perché le prime le non equiti ci portano a un mondo che è quello degli operatori economici aggregati quindi se vogliamo un mondo più noto e più conosciuto e a termini di quello che è oggi l'articolo 45 del decreto legislativo 50 del 2016 perché notoriamente la normativa degli affidamenti pubblici è una delle più tormentate del nostro ordinamento ebbene rincontriamo figure che conosciamo già da tempo a partire dalle associazioni che adesso si chiamano raggruppamenti di imprese per poi arrivare ai consorzi alla loro sottocategoria che sono i consorzi stabili istituto tipico degli appalti pubblici per poi approdare per esempio alle aggregazioni sotto forma di rete e poi ancora ai consorzi ordinari eccetera eccetera necessariamente abbandonerò il tema dei consorzi anche perché vedo che è trattato particolarmente anche in altre relazioni per invece dedicarmi più da vicino alle aggregazioni di tipo reticolare quindi associazioni oggi raggruppamenti ma non è un caso che li chiami associazioni perché nell'89 e nel 91 quando si affacciò l'istituto si chiamavano così e dall'altra parte le reti ancora invece per quanto riguarda le equity è oggi importante ricordare che si è creato sostanzialmente un sottomondo come con l'introduzione del decreto legislativo 175 del 2016 entrato in vigore il 23 settembre e qual è il punto d'unione perché parliamo delle aggregazioni equity nel mondo degli affidamenti perché di fatto si è terrorizzato con un'operazione coraggiosa abbandonando le sirene dell'entificazione per il tentativo da sempre di entificare tutto in Italia eravamo riusciti anche a entificare le società a partecipazione pubblica però d'altra parte si è creata comunque una si è data una scelta cioè quella comunque a partire dalle caratteristiche sotto il profilo dell'affidamento di individuare una sottocategoria speciale di azioni di società che sono le società in house il tema è particolare perché in house non è affatto un istituto del diritto italiano ma è un istituto del diritto comunitario e attiene esclusivamente alla modalità di affidamento questo è un problema talmente noto che la Cassazione ripetutamente è stata costretta ad intervenire avvertendo che il fatto che un ente usi la modalità in house non significa che la modalità in house possa essere di per sé fattore interpretativo di altri istituti dell'ordinamento problema gravissimo per esempio è come qualifico la partecipazione di controllo analogo di un ente pubblico rispetto a una società in house proprio perché per l'in house io non posso usare il 2359 a titolo di spiegazione anzi esattamente semmai il fenomeno al contrario quindi come immaginate i temi sono piuttosto variegati considerato il tempo concesso mi partirei dai raggruppamenti e dalle reti per fare qualche riflessione ascoltando le interessanti relazioni che ho potuto ascoltare mi verrebbe da dire sotto il profilo dei raggruppamenti che non si crea mai in verità il problema della soggettività giuridica sotto il profilo dei raggruppamenti di imprese nell'ambito degli appalti affidamenti concessioni quindi anche pubblici perché perché necessariamente e normalmente è esattamente il contrario cioè più si è separati meglio si sta c'è una ragione molto tecnica e cioè le imprese si riuniscono torto collo esclusivamente per una ragione di razionalizzazione dei requisiti quindi di possesso dei requisiti e dall'altra parte di mezzi quindi tendenzialmente non hanno voglia di aggregare alcunché questa non è solo una dotazione volgare banale di prassi che deriva dall'osservazione tipica di una stazione appaltante ma in realtà deriva da precise linee ed esigenze che hanno determinato la prima sistematizzazione dell'istituto nel 91 ed erano le grandi cosiddette atti di lavori per i lavori al di sopra dei a quell'epoca adesso non c'erano ancora ma erano x miliardi all'epoca perché perché il legislatore improvvisamente alla fine degli anni 80 si è deciso a sistematizzare in qualche modo l'istituto perché si è reso conto che proprio l'anarchia tipica dell'ati che è consustanziale all'istituto determinava per la stazione appaltante la necessità di avere un punto di riferimento e quindi questa negli appalti pubblici è la prima grossa distinzione che si può fare tra i raggruppamenti e le reti perché nei raggruppamenti di fatto c'è una scelta imposta dall'ordinamento quindi dal diritto positivo di individuare un'impresa la cosiddetta mandataria che di per sé assume una funzione ineludibile e incancellabile non solo fino all'esecuzione dell'appalto ma anche dopo cioè fino a che ci sia l'ultimo profilo anche risarcitorio anche contabile che riguardi stazione appaltante o terzi personalmente vedo anche fra voi anche tanti esponenti delle stazioni appaltanti si sa di atti che continuano serenamente nei secoli dei secoli anche per 10 15 anni eccetera eccetera magari attendi che finisca una cassazione e così perché perché le esigenze del legislatore la prima l'ho detta quindi trovare un'impresa che facesse da capogruppo che fosse l'unico punto di riferimento si abbina a un'altra esigenza che si è affacciata con la Merloni Ter quindi stiamo parlando sostanzialmente della fine degli anni 90 e quindi quale esigenza quella di fare in modo che ripeto l'anarchia dell'Ati non impedisse un sereno rapporto con i terzi fornitori perché l'altro problema era ma chi è responsabile di fronte ai terzi e questo è un gravissimo problema e per questa ragione se oggi andate a esaminare l'istituto sostanzialmente siamo nella parte seconda del nuovo decreto legislativo 50 del 2016 scoprite una serie di norme che sono veramente caratteristiche di questo istituto per esempio la precisazione che in altri settori dell'ordinamento risulterebbe assolutamente ovvio ed evidente che tutta l'Ati è responsabile ma è responsabile verso subappaltatori e terzi perché poi un po' alla volta siccome è diritto speciale prima hanno pensato ai terzi poi hanno detto ma una sottocategoria dei terzi e subappaltatori perché poi gli operatori economici a volte fanno finta un po' di non capire quindi all'ennesimo contenzioso poi aggiungi sempre un pezzetto della norma e in questo ambito in questo ambito paecugliare si comprende anche tutta un'altra serie di norme speciali del raggruppamento negli appalti pubblici per esempio la differenza che non è normale per esempio nella tipica joint venture fra raggruppamento verticale e raggruppamento orizzontale dove il raggruppamento verticale porta con sé per scelta la responsabilità della cosiddetta mandataria capogruppo e dell'impresa specializzata che ha eseguito per esempio la lavorazione X o il servizio Y mentre invece nel raggruppamento di tipo orizzontale sostanzialmente c'è una qualità lo dice la parola orizzontale di attività sostanzialmente omogenea fra le parti per cui normalmente c'è la responsabilità di tutte le parti nel tempo abbiamo avuto delle linee di sviluppo dell'istituto che troviamo assolutamente conclamate da ultimo da questo punto di vista l'istituto direi che è quasi noioso nel nuovo codice ossia per esempio nel tempo si è lentamente eroso il principio o meglio l'immobilità del principio dell'immodificabilità del raggruppamento anche questa è una cosa che cozza normalmente col diritto civile perché immodifichibilità perché nell'ambito della disciplina degli appalti il problema vero è il rispetto in sede di esecuzione di quei canoni e criteri che hanno consentito al raggruppamento di vincere quindi conseguentemente se io consentissi una normalissima immodificabilità io porrei in difficoltà chiedo scusa un po' di mal di gola il principio appunto dell'apparcondicio in gara perché se io in gara ho ottenuto l'appalto a determinate condizioni poi non posso modificare però ripeto è un principio che si è modificato altre questioni che nel tempo sono state risolte e quelle per esempio della corrispondenza fra i requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione dove in materia di lavori e non si nasconde anche sotto la spinta di esigenze di categoria dovuta a una fortissima crisi economica ormai c'è una differenza sostanziale fra gli appalti di lavori e gli appalti di servizi e forniture perché negli appalti di lavori noi abbiamo la sostanziale possibilità che in sede di esecuzione l'ATI ridefinisca all'interno i suoi compiti ma non è un caso perché le imprese di lavori sono più duttili e soffrono anche di più e sono anche industriali negli appalti di servizi e forniture invece tendenzialmente dove soprattutto negli appalti di servizi può essere anche molto importante il lato del singolo il lato del servizio della qualità del servizio e della personalità del servizio invece a questo punto è rimasta la regola dopo molta sofferenza per cui vi deve essere una corrispondenza sostanziale fra requisiti di partecipazione e poi condizioni di esecuzione nell'ambito invece delle reti abbiamo una situazione molto diversa tra l'altro una delle poche cose interessanti del decreto legislativo 50 è che oggi almeno ci siamo tutti perché nelle definizioni in queste orribili definizioni fatte pure lo debbo dire un po' volgare ma molto male però troviamo tutti quanti quindi abbiamo trovato adesso i raggruppamenti e poi troviamo le joint venture e non troviamo le reti ma troviamo il concetto di aggregazione e poi infine troviamo il concetto di impresa collegata queste sono tutte le forme reali e problematiche di aggregazione nel sistema l'impresa collegata la tratto per ultima perché ci porta poi alle aggregazioni equiti per quanto riguarda le reti oggi e fa sorridere mi rendo conto io poi nasco come giuscommercialista e continuo a trattare sempre argomenti che stanno un po' a cavallo fra queste due discipline beh vi assicuro che a volte mi fa sorridere leggere certe determinazioni delle varie autorità di vigilanza perché si vede la fatica di tradurre in qualche modo con gli istituti e facendo fondamento sugli istituti del diritto pubblico problematiche che in ambito civilistico sono perfettamente risolvibili quindi siamo andati avanti per tre anni cercando di capire dove stessero le reti perché le reti non sono una società e te ripeto un giuscommercialista un giuscivilista sorride di problematiche del genere però nell'ambito del diritto pubblico era veramente un problema classificare un soggetto che non era fra i soggetti tipici perché a ben vedere non è nemmeno un consorzio non la faccio lunga perché ci sono anche tante altre relazioni ma non è neanche facciamo le cose più semplici e anche apparentemente più dotate di un minor confine non è neanche un'associazione temporanea e questo è il vero problema perché alla fine poi l'autorità invece ha deciso quasi sempre di trattarla come un'associazione temporanea tranne per le reti dotate di personalità giuridica dove tendenzialmente si è spinta poi a trattarle come società con delle difficoltà perché poi ovviamente la rete non è una società e quindi il problema in parte si crea ma l'assimilazione più forzata è stata quella con i raggruppamenti e questo fa sì che si sia creato un sottomondo del sottomondo del sottomondo che è la trattazione delle problematiche della rete nell'ambito degli affidamenti di appalti pubblici dove si affannano o meglio le stazioni appaltanti per disperazione viste anche le scelte delle autorità di vigilanza di cercare delle mandatarie che nella rete classica non ci sono perché normalmente che cosa c'è c'è un legale rappresentante espresso a sua volta normalmente da una delle imprese di rete ma non c'è tecnicamente una mandataria per cui ci sono determinazioni un po' surreali e da questo punto di vista normalmente le stazioni appaltanti prese da sana disperazione hanno deciso poi sostanzialmente di creare due tipi di formulari uno pensato per la rete come raggruppamento e uno pensato per la rete come impresa in realtà l'istituto è di enorme differenza e basta vedere lo scopo perché se il raggruppamento ha per sua precipua caratteristica il fatto di essere un'istantanea un momento ci troviamo qui perché facciamo una cosa insieme ma è quella e non è detto che abbiamo rapporti esistono le cosiddette agenzie matrimoniali per la creazione delle ati nel senso c'è un lavoro da fare là ma senti tu conosci qualcuno che abbia la categoria ottava e cento miliardi di ponti no? così funziona invece nella rete ovviamente è esattamente il contrario c'è un rapporto fiduciario di fondo perché normalmente non ci si mette diversamente insieme c'è un progetto di fondo ci ricordava una delle interessanti relazioni che ho potuto sentire solo in parte che è necessario un programma di rete e anche se possibile dettagliato mi verrebbe da dire non troppo dettagliato perché poi se no cominciano le liti anche in quel caso e di fatti se ci badate la rete sotto il profilo degli affadimenti si trova nel mio settore soprattutto in campo comunitario nel campo degli affidamenti di progetti le call i programmi quadro e quindi i finanziamenti eccetera ma non è un caso perché per esempio se io Torino è la città dell'automotive e quindi si trovano interessanti i casi di rete di questo genere per esempio se io mi occupo della macchina intelligente piuttosto che della macchina alimentata con il più strano degli idrocarburi non idrocarburi eccetera eccetera è chiaro che piuttosto andrò a cercare finanziamenti o progetti di largo respiro il tipico affidamento invece è una cosa differente e direi che da questo punto di vista lasciando quindi le tipiche non equiti andiamo a vedere invece alcuni problemi ma anche alcuni profili interessanti creati da tre nuove norme e qui introduciamo il concetto di joint venture e il concetto di impresa collegata quali sono questi due concetti joint venture è una norma in realtà molto speciale che non si capisce perché sia stata inserita nell'articolo 6 fra i principi generali e attiene al caso dei settori cosiddetti speciali che per noi sono trasporti gas acqua eccetera e servizi postali perché comunque qualcosa dovevano permettere dopo che hanno tolto l'elettricità eccetera eccetera e in questo settore è prevista la possibilità che degli enti giudicatori pensate per esempio un'università creino un rapporto sufficientemente stabile almeno per tre anni con delle imprese e a questo punto è prevista la possibilità di appalti direi infra joint venture no? non la faccio lunga perché poi ci sono varie norme di settore eccetera eccetera poi c'è un altro caso che è quello invece degli appalti cosiddetti infragruppo perché la prospettiva del diritto comunitario e quindi a cascata perché ormai non abbiamo più molto da scherzare del diritto italiano è una prospettiva di aggregazione anche vedendo il gruppo come un'aggregazione e qui c'è il concetto di impresa collegata cos'è l'impresa collegata? l'impresa collegata ha due settori nell'ambito degli appalti pubblici o meglio due momenti di rilevanza il primo è quello della presenza di un'esigenza di consolidare i conti questa esigenza di consolidare i conti lo so che è surreale lo so però nell'ambito dell'appaltistica porta con sé la possibilità di affidamenti diretti perché il tema fondamentale dell'appaltistica è la tutela della concorrenza insieme a quella dell'interesse pubblico perché poi in un po' di tempo la comunità europea si è ammorbidita dopo il primo atteggiamento liberista degli anni 80 ma proprio perché la tutela in primis è quella della concorrenza allora il tema è possono o non possono delle imprese fra di loro a carattere pubblicistico perché comunque di mezzo c'è un ente giudicatore oppure perché la stazione appaltante è un ente giudicatore possono fare degli affidamenti tra di loro senza passare da una gara allora il primo concetto aggregante è proprio quello dell'impresa collegata ma impresa collegata anche lo trovate nelle nuove definizioni quella dove la controllante sostanzialmente abbia un effetto di stimolo controllo quel che volete rispetto alla controllata e qui si aprono dei mondi affascinanti perché per noi è il 2359 primo comma secondo comma numero 1 2 eccetera eccetera controllo di fatto controllo di diritto in abito comunitario ci sono soprattutto nei settori speciali pensiamo ai consorzi tra imprese per esempio per attività peculiari come sono quelle del servizio dei trasporti eccetera eccetera si aprono poi delle forme di collegamento che sono veramente peculiari e non presuppongono poi chissà quale tipo di collegamento nella vita normale questo è il punto sono sotto un certo profilo transitori anche esse il tema dell'impresa collegata porta poi al tema della rilevanza dell'inause perché l'inause è sostanzialmente un modo di fotografare in Italia non l'abbiamo ancora capito adesso una parte del consiglio di stato non l'ha ancora capito adesso è un modo di fotografare una realtà che non sta nel codice dei contratti questo dice la corte di giustizia sostanzialmente dalla prima sentenza olandese sui rifiuti a Raim eccetera eccetera allora oggi c'è una normativa perché per fare ordine e presi tutti dalla disperazione la direttiva dopo una forte azione di lobby in sede di Parlamento europeo per rivendicare la cosiddetta c'è la libertà della donna ma c'è anche la libertà dell'inause perché c'è stata combattuta una fiera battaglia in questo senso perché chiaramente è una sottrazione al regime degli appalti quindi c'erano come al solito precisi interessi economici ebbene ha portato a che la direttiva 23 concessioni del 2014 24 e 25 settori ordinarie speciali del 2014 abbiano identificato una volta per tutti per spiegare che non è appaltistica l'inause e a questo punto questa normativa speciale ma anche poco interessante perché in definitiva c'è qualche svarione del nostro legislatore ma che è troppo settoriale non interessa questa platea tipo per esempio hanno fatto degli errori sull'idrico eccetera ma vi risparmio e invece interessante perché porta direttamente e così mi avvio alla seconda parte della relazione ad affrontare il tema delle aggregazioni equiti perché perché il tema oggi è affrontato dal nuovo codice ma anche dal decreto legislativo 175 sotto una serie di profili perché in Italia vi dicevo alludevo all'inizio magari poteva anche essere un po' scuro questa allusione c'è stata la fortissima tendenza disastrosa disastrosa veramente disastrosa a tradurre la società in house solo perché era partecipata da enti pubblici sostanzialmente in un ente pubblico o parapubblico sciocchezza più grande non si poteva fare e ha portato a distorsioni inenarrabili per esempio oggi si discute se una società in house che ha fatto una gara sia ancora in house certo che è in house ma ha fatto la gara cos'è che voglio dire ci sono ci sono diversi mondi che nemmeno poi si incrociano troppo cioè io posso avere una situazione di controllo analogo di coordinamento da parte di un ente pubblico su una società ma questa società può essere benissimo un operatore libero di mercato totalmente libero perché ha fatto una gara rispetto al servizio e questo ci porterebbe in un mondo su tutto questo ha cercato finalmente credo che sia il miglior testo legislativo dell'anno ha fatto un po' d'ordine finalmente il decreto legislativo 175 perché perché spiega finalmente che le società a partecipazione pubblica sono degli enti di diritto privato soggetti di diritto privato dotati di capacità giuridica piena e assoluta salvo normative limitanti su singoli aspetti dove quindi il legislatore interviene esclusivamente per risolvere alcuni aspetti di dettaglio e qui arriviamo al tema dove appalti pubblici e aggregazione si inseriscono insieme sotto il profilo equity quali sono i due profili la società in house e la società mista e da questo punto di vista il tema sarà per il futuro ricordarsi che il tema dell'appalto in house è un tema collegato a quella della società in house il tema della società mista è un tema collegato alla trattazione della partenariato pubblico privato in sede di codice dei contratti andiamo a vedere poi la filosofia di fondo di questa normativa dove porta le scorie ovviamente azotate non è che sia così facile abbandonarle quindi sulla base anche di alcuni equivoci di fondo perché oggi ci sono società in house di servizi a tariffa che non hanno più ricevuto un contributo pubblico da credo centinaia d'anni anche in certi casi perché il pubblico non riesce più a dare il contributo ma qui si aprirebbero dei mondi e da questo punto di vista che cosa accade però che la corte la corte di cassazione che non ha tanta voglia ogni tanto di riconoscere i propri errori però nel 2013 ha detto che le società in house quindi dotate di affidamento diretto devono essere comunque qualificate e inserite sotto la giurisdizione della corte dei conti questa è per esempio una prima conseguenza altra conseguenza che è rimasta ancora oggi è per esempio quella che limita in qualche modo la possibilità di aggregazione e questo è il momento di interesse della normativa sotto il profilo della possibilità di acquisire nuove partecipazioni quindi nel caso per esempio delle in house cosiddette strumentali chiarisco che le strumentali sono quelle in autoproduzioni tipo la cartografia me la faccio in casa invece di perché ho tutti i geometri che mi fanno le cartografie quella è una classica strumentale le società di servizio pubblico sono tutte le altre servizio pubblico diretto o indiretto quindi non solo per esempio a Torino ne abbiamo di celebri non solo la società del servizio pubblico dei trasporti ma per esempio la società che si occupa del servizio dei semafori intelligenti e di tutta la gestione della mobilità quello è servizio pubblico indiretto eccetera eccetera allora se andiamo a vedere il nuovo codice nell'ambito dell'articolo 2,2 se mi ricordo bene lettera A e D vediamo non a caso che le società di servizio pubblico non hanno assolutamente problematiche sotto il profilo della possibilità di acquisire azioni di altri quindi per esempio di aggregarsi azioni o quote perché si tratta di società per azioni o a responsabilità limitata oggi è stato chiarito o consortili per azioni ma poco cambia mentre invece nel caso appunto delle società cosiddette strumentali il problema c'è perché è vietato quindi il fenomeno aggregativo nell'ambito delle società strumentali è stroncato definitivamente dal legislatore il tema è notorio perché si sono create società di progettazione molto chiaro perché poi il mio è un modo dove ahimè gli interessi sono immediati e concreti e di onestà intellettuale a volte ce n'è anche molto poca per cui dietro certe tesi ci sono sempre certi precisi non ogni tanto ci sono sempre certi precisi interessi e quindi in questo caso è stato stroncare una volta per tutto il tema delle società di progettazione a partecipazione pubblica piuttosto che di validazione a partecipazione pubblica che hanno creato veri e propri imperi quindi in questo caso l'altra questione per esempio è che ci sono tutta una serie di limitazioni e ci sono delle normi che non si capirebbero diversamente se non ci fosse questo intreccio tra appalto tentativi di identificazione oggi non più presenti problematiche relative al servizio e all'affidamento del servizio che poi hanno determinato questa classificazione tra in house e non in house per esempio ci sono limitazioni all'articolo 5 per cui si può in generale acquisire una partecipazione nuova solamente se si sia sicuri uno dice ma cosa c'entra se si sia sicuri che non ci siano modalità alternative più economiche di gestire il servizio uno dice ma cosa c'entra col fatto di comprare la partecipazione potrei farmi un problema di oggetto sociale potrei farmi un problema di costo no perché il tema è in questa particolare ottica strettamente collegato ossia normalmente si ritorna al concetto di impresa collegata perché io compro qualcuno nell'ambito del pubblico tendenzialmente non sempre ma tendenzialmente perché crea una filiera nel servizio pubblico si è addirittura creato il tema ed è un istituto sostanzialmente a parte affascinantissimo del gruppo di servizio pubblico dove normalmente le singole attività centrali accessorie si sviluppano in una serie di società che si chiamano tra loro e quindi conseguentemente ecco perché se no diversamente risulterebbe totalmente incomprensibile il fatto che per esempio le in-house applicheranno tutta la normativa in materia di affidamenti le miste no e così via vedete questa sostanziale differenziazione che non significa di nuovo aver compenetrato istituti che sono diversi ma serve ormai esclusivamente nella nuova prospettiva di questo codice a identificare fenomeni paralleli che hanno una giustificazione l'una nell'altro quindi ripilogando le in-house rappresentano un sistema a parte che non è negli appalti crea se vogliamo una situazione diversa quella della normale concorrenza e del normale affidamento allora a questo punto ha un trattamento pur essendo ormai un soggetto giuridico privato uguale agli altri dopo gli anni di sofferenze e di cavalcata nel deserto no? però come dire ha comunque un trattamento diverso sotto alcuni aspetti specifici però di fatto davvero è da riprendere tutto in mano perché bisognerà avere il coraggio di cambiare mentalità e avere il coraggio di capire che si buttano dal mio punto di vista sono estremamente lieta dieci anni di normative e anche di dottrina che non mi vedeva assolutamente d'accordo perché è assolutamente contraria ai principi comunitari mentre invece ormai legge diventa la sentenza della corte costituzionale 199 del 20 luglio del 2012 proprio in materia di un house che ha sancito la sostanziale e anche non sostanziale l'iguaglianza fra imprenditoria cosiddetta privata e imprenditoria cosiddetta pubblica sotto il profilo appunto della impostazione e dei comportamenti di tipo aziendale vi ringrazio grazie grazie avvocato Rostagno la professoressa Lunardon che è ospite molto spesso dei nostri convegni prima della pausa tratterà invece il tema dell'aggregazione di imprese sotto il profilo della materia gius lavoristica ecco bene anzitutto voglio ringraziare anch'io per l'invito che mi consente di tornare su di un tema che mi è caro veramente e che nel frattempo si è anche notevolmente evoluto dico dal punto propriamente il rapporto tra gruppo di impresa impresa di gruppo e diritto del lavoro anzitutto vedo dire che il fenomeno dell'aggregazione se vogliamo per non dover poi scegliere nominalisticamente tra gruppo di impresa o rete poi vedremo il fenomeno dell'aggregazione tra imprese è sempre stata una sfida per il diritto del lavoro è sufficiente ricordare anzitutto lo schema archetipico di rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile attorno a cui gravita da sempre la mia materia che allora quel rapporto è un rapporto che nasce come rigorosamente anzi che nasce e secondo me resta come rigorosamente bilaterale quindi attenzione molto restio ad eventuali diciamo complessificazioni dal punto di vista soggettivo se posso utilizzare il termine complessificazione d'altro canto basti anche ricordare una legge che ormai è stata una legge gloriosa la 1369 del 1960 che introduceva ora non c'è più è stata abrogata dalla riforma Biagi decreto legislativo del 2003 e quella legge già nel 1960 quindi proprio all'inizio del decennio magico che poi ha visto sviluppare tutto il diritto del lavoro nella sua anima proprio garantistica di tutela ebbene già quella legge prevedeva il divieto di intermediazioni di mano d'opera e già dimostrava in modo chiarissimo come il diritto del lavoro in realtà fosse ostile a qualsiasi ipotesi di scissione tra la titolarità formale del rapporto e l'utilizzazione sostanziale della prestazione del lavoratore cioè come a dire che il datore di lavoro deve essere la persona che si stipula con te il contratto e quindi ti assume ma anche la persona che ti utilizza e in quanto tale visto che c'è un'unicità tra la titolarità e l'utilizzazione in quanto tale è la persona che è responsabile nei tuoi confronti dell'applicazione di tutta la normativa di tutela perché proprio in questa separazione si annidavano i pericoli ovviamente i pericoli della illusione dell'applicazione della disciplina tipica che ripeto per le imprese è un costo chiaramente allora scusate io qui ho utilizzato ma utilizzerò diciamo così senza propriamente seguirle alcune slides allora non stupisce perciò che quando anche se un po' più tardi rispetto agli anni che vi ho ricordato quando iniziano a formarsi gruppi di imprese e poi molto più tardi ancora le reti il diritto del lavoro resti un po' spiazzato e i suoi protagonisti si dividano quasi sempre nel diritto del lavoro ci sono due orientamenti che si contrappongono allora nei confronti del gruppo di imprese ad esempio si è cominciato a parlare di gruppo di impresa o impresa di gruppo perché l'essenza del problema era proprio questa la divisione ecco tra i protagonisti consisteva in questo che vi era tutto un orientamento che tendeva a ricostruire unitariamente il gruppo per consentire al lavoratore all'interno del gruppo di poter rivendicare nei confronti dell'una o dell'altra controllata collegata i propri diritti fare in modo che il famoso velo della personalità giuridica distinta non costituisse un ostacolo alla realizzazione della normativa di tutela e quindi l'opzione è sempre stata duplice d'altro canto c'era quell'altro orientamento che invece era piuttosto teso a valutare la fisiologicità della forma gruppo ricostruendola questo sì come una semplice evoluzione della forma ovvero un'evoluzione della forma organizzativa del mondo della produzione e quindi sostanzialmente accettandola e cercando seppur con maggiore difficoltà dal punto di vista poi della verifica dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione della normativa di tutela comunque cercando di accoglierla di tollerarla cosa ha fatto la giurisprudenza qui eravamo proprio agli inizi allora qui appunto ci sono queste letture unitarie e le letture pluraliste io vi lascerò poi le slide la giurisprudenza si divise anch'essa perché c'era tendenzialmente la giurisprudenza di merito incline a valorizzare alcuni indici base a questi indici diceva il gruppo non poteva che essere qualcosa di unitario ad esempio gli indici poteva essere la gestione di attività economiche coordinate le sedi comuni gli assetti proprietari coincidenti l'interscambiabilità del personale indici peraltro che sono tuttora presenti nei nostri fenomeni di aggregazione che poi sono le reti i reti contratto e ancora più ovviamente nelle reti soggetto invece la giurisprudenza di legittimità che tendenzialmente agisce come un filtro diciamo razionalizzatore e piuttosto qualche volta diluitore dei problemi è sempre stata in proposito molto cauta tanto che questa è una cassazione ma avrei potuto veramente citarne molte altre la cassazione che si limita a dire che il collegamento tra società il quale implica la gestione di attività economico coordinate configura un fenomeno di mero fatto che non vale ad attribuire la titolarità del rapporto di lavoro a un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro come notate c'è sempre il problema della titolarità formale e del profilo sostanziale quel problema che questa separazione che il nostro diritto del lavoro tende sempre invece diciamo ad azzerare unificandola in un unico rapporto la giurisprudenza diceva pur tuttavia perché non poteva a questo punto negare comunque del tutto una rilevanza giuridica dall'angolazione nostra lavoristica al fenomeno del gruppo diceva pur tuttavia è possibile ricostruire un gruppo solo in un caso cioè quando vi sia continuo a leggere una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi della società del gruppo mediante appunto interposazioni fittizie ovvero quando vi sia un'illecita interposizione ex legge del 60 che è quella che io ho richiamato all'inizio quindi arrivati qui siamo tra l'altro qui ai anni 2000 questa è una Cassazione del 99 sembrava dirsi il gruppo per il diritto del lavoro comunque è sempre un fenomeno di mero fatto vale la distinzione giuridica cioè della personalità giuridica tra le diverse collegate o controllate che lo compongono un lavoratore adesso faccio l'esempio così rendo anche un po' più interessante la cosa un lavoratore che sia stato licenziato da un'impresa collegata che magari occupa 13 dipendenti non potrà mai dire io rivendico la tutela ex articolo 18 cioè la reintegra perché è quella che si applica se l'unità produttiva ha più di 15 lavoratori non lo potrà dire perché perché la sua diciamo sua impresa unità produttiva resta unità produttiva che non ha momenti di collegamento normativo oltre che economico ovvero lì ha solo economico non normativo e non si possono computare tutti insieme i lavoratori del gruppo onde capire se quella fatidica soglia del 15 sia stata superata o meno perché questo era poi il problema dal punto di vista lavoristico forse più sentito quello di capire nel caso di licenziamento poi dichiarato illegittimo del lavoratore se fosse possibile in un contesto di gruppo contare i lavoratori tutti insieme per vedere se si applicava il 18 cioè questo era uno dei problemi allora la giurisprudenza di legittimità da questo punto di vista è rimasta sostanzialmente ferma non sostanzialmente ma non completamente perché qualcosa negli ultimi tempi si è mosso e questa direi l'ultima frontiera prima o poi di magari prepararsi a fare il salto verso il fenomeno della rete che è qualche cosina di diverso di diverso ma non troppo e si è mossa perché perché ha continuato a sostenere che per poter si dicevano sollevare il velo della distinzione tra le personalità giuridiche ci voleva la prova della frode quindi prove concrete della unitarietà giuridica e non soltanto economica sostanziale del gruppo pur tuttavia è arrivata a dire che la frode che è sempre stata difficilissimamente provabile è arrivata a dire che la frode ricorre eccola qui aiutato dal punto di vista probatorio insomma coloro che erano interessati a ricostruire il gruppo in modo unitario la frode ricorre ogni volta che vi sia una simulazione una preordinazione eccetera 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 attraverso l'esistenza a sua volta appunto accertata attraverso l'esistenza dei seguenti requisiti e ha elencato una serie di requisiti unicità della struttura organizzativa e produttiva integrazione tra le attività esercitate coordinamento tecnico amministrativo e finanziario utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori qui cosa c'è di più c'è di più il tentativo in più lavorare sul piano probatorio l'accertamento dell'esistenza della frode solo questo chiaro che a quel punto avendo questo percorso è possibile vero che lo si faceva già da prima perché comunque questi sono i classici elementi sulla cui base poi viene valutata la sussistenza del gruppo come fenomeno unitario però purtuttavia questo percorso fornisce una serie di paletti che consente magari al giudice di chiedere e poi alle parti di provare e quindi di arrivare a capire se c'è questa possibilità di dichiarare formalmente l'esistenza di un soggetto unitario che non sia soltanto economicamente diciamo esistente economicamente connotato arriviamo al contratto di rete sì qui sui gruppi e reti in verità ma questa è dottrina il contratto di rete appunto ci si chiede come si colloca rispetto a questa tematica dei gruppi che è una tematica tutto sommato molto tradizionale allora c'è chi qui veramente ho ricopiato quel che dice la dottrina c'è chi semplicemente si limita a dire che il gruppo è una networked firm cioè è un'impresa collegata in rete che però può svilupparsi in senso vertica anche in senso verticale gerarchico mentre ecco già una piccola differenza a livello meramente descrittivo per quanto riguarda la rete si dice che è un network of firms cioè è soltanto una rete di imprese ma si sviluppa soltanto sul piano orizzontale ma si sviluppa soltanto sul piano orizzontale per un motivo molto semplice perché la rete che secondo me non è tanto allora dovrei parlare l'impresa di rete non è un allora può diventare un soggetto ma non è un soggetto non è un istituto non è una struttura insomma la rete è prima di tutto è uno strumento è un contratto cioè io ovviamente so che poi ci sono state anche in base alle disposizioni legislative che hanno previsto il contratto di rete ci sono state le modifiche che hanno consentito l'acquisizione della soggettività giuridica tramite la personalità anzi l'hanno anche fatta un po' tornare indietro direi perché inizialmente era automatica nell'ipotesi in cui ci fosse stato un fondo patrimoniale comune un organo comune di gestione invece poi ha detto no anche in questo caso deve comunque essere volontaria va tutto bene pur tuttavia direi che per affrontare correttamente intendo dal punto di vista della mia prospettiva che è una prospettiva lavoristica che sostanzialmente è la prospettiva della ricerca delle responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro è necessario considerarla essenzialmente per quella che è e poi cominciare tra l'altro dal soggetto più difficile il soggetto più difficile è proprio il contratto rete che non è soggetto perché se la rete è soggetto ecco siamo arrivati esattamente a quello che volevano le letture unitariste cioè c'è la ricostruzione in senso unitario di un soggetto che a quel punto assume le responsabilità su base contrattuale allora non mi diffondo perché prima di me ci sono state veramente degli interventi delle relazioni devo dire molto belli mi ho imparato un mucchio di cose quindi è chiaro che tutto quel che posso ripetere io sul contratto di rete è inferiore quindi io lascio stare anzi sarete contenti di vedere che le slides possono anche scorrere abbastanza velocemente ma mi limito solo a dire questo allora il contratto di rete se proprio vogliamo fotografarlo in quel che fa ovvero nel quantum di differenza che introduce nell'ordinamento è questo il contratto di rete dà finalmente una forma giuridica ad un fenomeno di fatto il gruppo era un fenomeno di fatto a meno che non ci fosse la prova della frode invece il contratto di rete fa emergere finalmente diciamo fisiologicamente il gruppo nella sua volontaria pluralità o unicità quindi trasforma in contratto il collegamento economico però attenzione il contratto di rete non risolve il problema lavoristico perché il contratto di rete non costituisce automaticamente il superamento della distinzione giuridica e vado avanti quel che poi è successo quindi io potrei anche fermarmi qui e dire c'è stata sicuramente un'evoluzione c'è stata una trasformazione dal fatto che è diventato contratto ora veramente per capire quali sono i rapporti è necessario andare a leggere il contratto di rete però per il diritto del lavoro in fondo cos'è cambiato allora fin qui potrei fermare e non è cambiato niente non è proprio vero perché negli anni immediatamente successivi insomma il contratto di rete è stato introdotto nel 2009 poi ci sono state le modifiche nel 2012 anche 2011 2012 benissimo nel 2013 è successo qualcosa di particolare probabilmente il legislatore si è reso conto che comunque c'erano le disposizioni sul contratto di rete probabilmente il legislatore lavorista ha voluto anche sintonizzarsi con queste disposizioni e così come è suo solito fare in questa materia non è che si sia granché attivato comunque ha introdotto ha introdotto dei concetti che per noi gius lavoristi sono assolutamente nuovi allora lasciamo stare qui il punto 1 di stacco tre imprese in rete in realtà è una disposizione che dice qualcosa che ci interessa no ma i concetti nuovi che ha introdotto sono questi la codatorialità e l'assunzione congiunta in più appunto insieme all'introduzione di questi due nuovi concetti ha introdotto per quanto concerne il distacco tra imprese in rete si la diciamo una specie di presunzione quella dell'interesse automaticamente scaturente dal contratto di rete nell'ipotesi appunto di distacco ma ora mi spiego meglio perché non mi sono spiegata cominciamo forse da quello che è il disposto meno meno nuovo allora io in realtà poi mi limito a spiegarvi questi due nuovi concetti un po' come devono essere intesi e cosa è successo sul fronte del distacco tra imprese in rete e poi ho praticamente finito allora cominciamo dal disposto e con meno innovativo ma pur sempre innovativo allora devo fare una piccola premessa nel diritto del lavoro il distacco è uno degli istituti che realizza proprio quella separazione tra soggetto che è titolare formale del rapporto e soggetto che utilizza la prestazione è una fattispecie legittima a determinate condizioni tant'è che c'è il datore distaccante che mette a disposizione di un altro datore di lavoro che è il distaccatario un suo lavoratore lo schema è triangolare come tutti gli schemi nei cui confronti diritto del lavoro ha rivelato ostilità è triangolare però è regolato l'ha regolato veramente per la prima volta il decreto legislativo 2003 la cosiddetta riforma Biagi nel regolarlo il decreto ha semplicemente però giuridificato quelle che erano gli orientamenti giurisprudenziali precedenti dicendo che ci vogliono due requisiti perché il distacco sia legittimo uno ci vuole un interesse del distaccante quindi l'interesse deve essere del soggetto che manda si chiama anche comando che manda comanda al lavoratore di andare a svolgere la propria prestazione presso un altro soggetto e due l'altro requisito è la temporaneità perché temporaneità appunto qui c'è il discorso del fatto che non si tollera che ci sia una separazione tra titolare formale e utilizzatore sostanziale che duri perpetuamente quindi deve essere temporaneo ora ecco qui la novità se il distacco avviene tra imprese in rete non è più necessario per il datore di lavoro che mette il suo lavoratore a disposizione di altri retisti così li chiamano non è più necessario provare l'interesse perché è questa l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete poi dice fate salve le norme in materia di mobilità di cui a 2103 si intende che ovviamente i limiti legislativamente previsti per l'esercizio del potere direttivo in questo caso per la variazione delle mansioni quelli restano cioè nel distaccare il lavoratore non puoi cambiargli impeius le mansioni ovvero adesso il 2103 è poi stato in realtà modificato dal Jobs Act per cui potresti anche cambiargli l'impeius ma comunque secondo le condizioni sempre previste adesso previste allora qui c'è il riconoscimento insomma che il riconoscimento che le imprese che stipulano questo contratto di rete hanno un interesse comune o comunque qui c'è un riconoscimento di un interesse che in questo caso è della parte distaccante che però può coincidere con altro interesse insomma in altra parola c'è il riconoscimento di una dimensione di una realtà che consente comunque al giudice nel momento della verifica dei presupposti di legittimità del distacco di dire che uno di questi due presupposti è già verificato c'è già non è necessario vi dirò di più veramente anche il requisito della temporaneità di cui nessuno poi ha detto niente il legislatore non ne ha parlato veramente l'articolo 30 qui primo comma lo prevede che ci sia sempre la temporaneità su questo requisito della temporaneità resta ancora oggi un punto interrogativo certo ci si può aspettare che anche in rete se un retista mette a disposizione un proprio lavoratore non lo faccia magari per sempre ovvero io direi di più questo è un caso in cui il famoso programma di rete dovrà pronunciarsi eventualmente almeno è chiamato a pronunciarsi per chiarire se questi distacchi possono considerare perché secondo me in assenza di una disposizione specifica nel contratto di rete che dica qualcosa cioè di come venga considerata questa temporaneità il distacco comunque non dovrebbe ritenersi valido anche se c'è uno dei due requisiti perché? perché c'è anche la temporaneità quindi questo è già secondo me un punto sul quale il contratto di rete deve deve esprimersi se vuole veramente agevolare la mobilità infra infrarete e questo è il distacco non mi dilungo non mi dilungo vediamo ah sì non vi avevo spiegato questo particolare vi avevo detto che questo è un elemento innovativo ma non troppo perché? perché proprio a dire il vero con riferimento ai nostri vecchi gruppi c'era già una circolare che per aiutare comunque il distacco infragruppo aveva previsto che in tale ipotesi di imprese quindi collegate controllate l'interesse del datore di staccante potesse presumersi però loro aveva parlato di presunzione allora qui volendo veramente fare una differenza giusto per capire come sta la rete rispetto al gruppo bisogna dire che sì nel gruppo l'interesse dell'impresa di staccante si presume ma è una presunzione semplice nell'impresa di rete invece è una presunzione assoluta anche perché per l'impresa di rete c'è una disposizione legislativa per il gruppo semplice c'è soltanto una circolare e direi in questo caso forse la fonte ha un suo significato passo alle due novità allora sempre all'interno della disposizione che facilita il distacco creando questo diciamo questo facendo riferimento ad un interesse che scaturisce automaticamente dalla rete è prevista la codatorialità è bene leggere veramente la disposizione dice per le stesse imprese le stesse imprese sono quelle che hanno stipulato il contratto di rete e che appunto sono facilitate nel distacco ai sensi di quello che ho appena detto per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso allora questa codatorialità che cosa è perché da un certo punto di vista la codatorialità nel nostro diritto di lavoro non può esistere perché nega il 2094 nega lo schema rigorosamente bilaterale che ancora adesso deve intendersi restare rigorosamente bilaterale allora questa infatti questa codatorialità è un concetto misterioso io direi che intanto si fa prima a dire cosa non è e poi vi dico cosa hanno suggerito che possa essere che diventa veramente un concetto più innocuo di quello che si può temere allora intanto non è la codatorialità dei gruppi anzi qua bisognerebbe dire non è la codatorialità che si voleva che fosse dei gruppi quando li si ricostruiva unitariamente per poter dire ad esempio che si applicava il 18 dovendosi computare tutta insomma in organico tutta la forza lavoro di tutte le singole articolazioni produttive quindi non è sicuramente non è quella codatorialità forte sostanziale assolutamente no poi non è un distacco vabbè non ha nulla a che vedere col distacco tradizionale perché nel distacco tradizionale c'è anche un concetto di codatorialità che è quello che fa riferimento a forme di condivisione peraltro non predefinite ma neanche dal legislatore del potere direttivo ma non ha niente a che vedere neppure con questo tipo di distacco perché vuole essere qualcosa di nuovo anche se poi non lo è propriamente quindi non coincide poi alla fine neppure con la codatorialità che noi possiamo in qualche modo intravedere o assegnare all'appaltatore all'appaltante in un contratto di appalto perché lì più che altro più che la codatorialità lì vediamo un effetto di una specie di codatorialità l'effetto è quello che c'è tra appaltante e appaltatore la responsabilità solidale per i crediti dei dipendenti dell'appaltatore quindi non è neppure questo tipo e non è alla fine non coincide neppure alla fine con una contitolarità formale la contitolarità formale anzi oserei dire che è quanto di più lontano ci sia dalla codatorialità contitolarità formale infatti significa che al momento della stipulazione del contratto vi sono dalla parte del datore di lavoro e anche questo è un po' particolare per la nostra materia due datori cioè c'è una contattazione ovvero il contratto attenzione resta sempre bilaterale perché è un contratto sinalagmatico quindi da un lato la causa è tale che da un lato c'è il lavoratore che ha un'obbligazione e dall'altro c'è il datore che ne ha un'altra ebbene dal lato dell'obbligazione del datore si può verificare oggi tra l'altro è ammessa in agricoltura che vi possono essere magari due datori non è però e secondo me non è mai non è mai possibile che il contratto di lavoro diventi un contratto plurilaterale perché è un contratto bilaterale di scambio per eccellenza quindi anche il contratto di rete non ci deve fare in qualche modo far confusione allora io adesso non insisto sulle differenze perché ci sono anche poi differenze tra la codatorialità che esiste nella somministrazione di manodopera e nel distacco ancora insomma come possiamo definire questa codatorialità in modo tale che rispetti che rispetti i principi e le categorie della nostra materia cioè che si inserisca nell'ordinamento lavoristico senza determinare tensioni e torsioni può essere definita in un modo molto semplice e cioè come vediamo se alla fine l'ho anche riportato altrimenti molto semplicemente come un modo che hanno i due o i tre o i quattro datori di lavoro imprenditori stipulanti il contratto di rete di condividere tra loro il potere direttivo allora ora vi faccio una piccola spiegazione che è quella che secondo me metterebbe a posto alcune alcune diciamo alcune cose tutto nasce dal potere che ha il datore di lavoro di distaccare il lavoratore quindi non è che la rete faccia sorgere nuovi poteri in capo ai soggetti di rete assolutamente no ed ecco perché questo abbiamo una prova di questo che sto dicendo la disposizione sul distacco cioè quella che prevede l'interesse automatico che sorge insieme alla rete è quella che che introduce per la prima volta la codatorialità è una disposizione che viene messa in un comma che è il 4 bis all'articolo 30 del decreto legislativo 276 del 2003 che si occupa del distacco quindi la codatorialità nasce è inerente ovvero può essere può essere utilizzata e predicata soltanto nel contesto di esercizio del potere di distacco altrimenti il legislatore non avrebbe fatto così come ha fatto allora il datore può esercitare il potere di distacco perché anzi qualcuno dice che quando il datore manda il lavoratore a prestare la sua attività altrove esercita né più né meno che il suo potere direttivo ed è come dire se fosse un ordine o una direttiva è un potere direttivo quello attenzione molto particolare perché quando questo perché non si tratta solo di un trasferimento non è quello un potere di trasferimento il trasferimento implica soltanto il mutamento di luogo nel distacco no oltre al mutamento di luogo c'è qualcosa in più c'è il fatto che quel lavoratore quando si mette a disposizione per ordine del suo datore originario di lavoro del distaccatario si mette a disposizione sottoponendosi all'esercizio di tutto di una parte insomma del potere direttivo del distaccatario insomma è il potere direttivo che nel fattispecie del distacco viene condiviso anzi qualcuno dovrebbe dire visto che il lavoratore va propriamente presso quest'altra impresa e riceve ordini direttive da quell'altro datore viene condiviso insomma si e no viene praticamente quasi dislocato tutto in capo al distaccatario in quale quantità perché ho detto in tutto in parte non voglio essere in realtà imprecisa ma ho ragione a dire in tutto in parte perché il legislatore trattando del distacco non ha mai chiarito il modo con cui distaccante e distaccatario si dividono il potere direttivo non ha mai l'ha sempre lasciato così un po' l'ha lasciato a che cosa all'accordo delle parti all'accordo delle parti è chiaro che se io distacco un lavoratore in Argentina a quel punto sarà quasi tutto il potere nei suoi diversi profili potere di conformazione i us variandi cioè di adibizione a mansione diversa disciplinare di controllo sarà quasi tutto dislocato in capo al distaccatario se io invece me lo tengo magari nel perimetro della rete può anche darsi che io mi riservi di dargli ulteriori ordini direttive oltre a quelli che gli vengono impartiti dal distaccatario allora quello che voglio dire è che questa è sempre stata comunque un'area non non legificata perché è rimessa all'accordo delle parti mentre questo va detto quando si parla di somministrazione di mano d'opera proprio perché c'è stata moltissima attenzione sulla somministrazione tutto è stato veramente legificato e il contratto è stato regolato in tutte le sue parti nella somministrazione c'è proprio la divisione tra diverse parti del potere direttivo date a vedere comunque adesso il decreto legislativo numero 81 del 2015 che dice l'utilizzatore si ha il potere direttivo di conformazione e di controllo non ha il disciplinare ad esempio perché per il disciplinare nell'ipotesi in cui venga commessa un'infrazione questo potere passa in capo anzi resta in capo all'agenzia comunque qui siamo di fronte ad un'area grigia per quanto riguarda il distacco ecco una delle altre novità che forse sono degne di nota è proprio questa la codatorialità visto che configura tra l'altro un modo per i rettisti di condividere su base contrattuale il potere direttivo ovvero di dislocarlo in tutto o di dislocarlo in parte o comunque di insomma di scomporlo la codatorialità riempie per quanto riguarda questo spazio della rete la zona grigia che è sempre rimasta diciamo inespressa e comunque non regolata dell'istituto del distacco questa è anche una novità e la codatorialità in questo modo viene ad assumere comunque un significato minore ma non potrebbe che essere così perché tutto si sviluppa dal distacco quando sei in rete non è che i dipendenti di un'impresa diventino i dipendenti dell'altra vi ho appena detto poi che anche ma anche qualora ci fosse la soggettività giuridica i dipendenti manterrebbero il contratto formale che hanno stipulato col loro datore di lavoro originario non è che arriva la rete e tutto si sconvolge quel che può essere sconvolto è il momento della utilizzazione del lavoratore e il diritto del lavoro quello che ha fatto l'ha fatto dice se vuoi utilizzare anche se sei un retista ti inserisci nello schema del distacco inserendoti nello schema del distacco puoi questo si stipulare ovvero riempire questo concetto vuoto della codatorialità condividendo dividendo scorporando le parti di potere direttivo guardate che poi codatorialità vuol dire semplicemente e secondo me soltanto questo perché non ha niente a che vedere con la responsabilità perché anche la parte della responsabilità deve essere tutta riempita in base vabbè in base poi alla verifica della titolarità formale dei contratti in base eventualmente alla verifica della legittimità dei distacchi e infine in base al rinvio questo si c'è sempre un grosso rinvio a che cosa a quello che è il contenuto del contratto ovvero il contenuto del programma del contratto di rete ed è lì dentro che lavoristicamente parlando potremmo vedere tante cose interessanti perché noi lavoristi siamo abituati a ragionare veramente in modo un po' schematico ed ecco quindi ecco perché alla fine posso spiegare in qualche modo la slide ecco perché si può parlare è un job sharing questa codatorialità dal lato datoriale quel che si può dire è un utilizzo promiscuo promiscuo però va poi chiarito sulla base delle disposizioni del contratto di rete di uno o più lavoratori formalmente dipendenti da un'impresa della rete la cui prestazione viene gestita in funzione dell'interesse di rete secondo i modi stabiliti dal contratto di rete tutto questo è verissimo però questa definizione è una definizione non lavoristica ma commerciale perché il contratto di rete è un contratto commerciale non c'è appunto nessun tipo di scambio o corrispettività con il lavoratore quindi quando noi vogliamo spiegare lavoristicamente parlando che succede dobbiamo fare riferimento ai nostri istituti appunto e quindi ora vi lascio stare ci sarebbero ulteriori elementi di complicazione che derivano dai tentativi di inquadramento civilistico però io sinceramente questo ve lo risparmio e voglio soltanto soffermarmi per dire appunto che così come lo schema contratuale ovvero il tipo di obbligazione che scaturisce dal rapporto di lavoro subordinato non viene direttamente toccata dal contratto di rete anzi resta intatto quello è un contratto che resta separato anche le responsabilità restano intatte o separate fino a quando non siano gli stessi imprenditori della rete a definire diversamente e a questo punto ad attribuire all'uno all'altro secondo magari le modalità di utilizzazione le esigenze eccetera le finalità perseguite le relative responsabilità ma anche in quel caso ci sarebbe allora che cosa un tipo di disposizione contrattuale della responsabilità che secondo me qualche volta incontra anche dei limiti perché finché parlo di responsabilità sul piano civile anche sul piano amministrativo forse sul piano penale c'è qualcosa da dire è vero che ad esempio in materia di salute e sicurezza si ammette che vi sia vi possa anche essere una delega di responsabilità io non entro in argomento perché sicuramente sarà trattato questo molto meglio nel prosieguo in particolare dalla professoressa Rossi e qui se lo tratterà perché non sono a conoscenza veramente forse lei si occupa comunque sì perché guardate questo è un tema veramente interdisciplinare al massimo tant'è che il convegno di oggi è particolarmente potrei dire azzeccato perché a volte ci sono temi non interdisciplinari che possono essere trattati in modo interdisciplinare ma il convegno di oggi sul contratto di rete è sostanzialmente interdisciplinare comunque detto ciò per dirvi che allora le responsabilità restano a secondo le disposizioni restano distribuibili secondo le disposizioni del contratto di rete sentite avrei da dire tantissimo ma io passerei adesso all'ultimo concetto quello nuovo ecco l'assunzione congiunta da non confondere con la codatorialità che abbiamo detto che è un contratto che serve a dividere tra i diversi datori della rete il potere direttivo per l'utilizzazione dei prestatori di lavoro quindi non bisogna esaltarlo ecco mentre l'assunzione congiunta è veramente qualcosa di più solo che ha fatto meno scalpore per un motivo perché non è una prerogativa del contratto di rete quella di poter assumere congiuntamente prestatori di lavoro è una prerogativa delle imprese agricole cui certo può accedere anche un contratto di rete dice quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole allora per questo ha fatto un po' meno scalpore in verità qui la novità è molto forte la novità è molto forte per i motivi che vi dicevo perché appunto dal lato datoriale si ha veramente una pluralizzazione dei soggetti creditori della prestazione perché qui stiamo parlando del punto di vista formale abbiamo propriamente formalmente un contratto stipulato da più datori nei confronti di un prestatore di lavoro e quindi non stupisce direi e non potrebbe non potrebbe stupire a questo punto che la legge stessa fa qui in materia cioè quando tratta della funzione congiunta fa quello che invece non ha fatto con la codatorialità e cioè ha previsto che vi sia la responsabilità solidale fra tutti quelli che hanno partecipato fra tutti i datori di lavoro che hanno partecipato all'assunzione congiunta insomma tutti quelli che hanno assunto insieme il lavoratore ma qui è chiaro perché quelli sono datori di lavoro hanno stipulato il contratto e piccolo particolare anche il lavoratore qui con loro visto che anche il lavoratore ha stipulato il contratto ha dato il suo consenso quindi siamo in una situazione in cui veramente qui si parla di contratto di lavoro che vede da una parte due più datori dall'altra un prestatore non un contratto di rete che a livello teorico se non ci sono momenti di collegamento voluti dalle parti non c'entra niente con il contratto di lavoro il contratto di lavoro che non c'entra niente col contratto di rete cioè sono due dimensioni assolutamente diverse quindi qui ci sono disposizioni in materia di responsabilità c'è la responsabilità solidale non poteva essere in verità diversamente non poteva quindi un'ultima notazione allora per quanto riguarda l'assunzione congiunta abbiamo visto c'è una pluralità di soggetti sul versante datoriale si è poi parlato anche di assunzione diretta da parte di una rete dotata di soggettività giuridica questo sembrerebbe veramente una cosa magari un po' futuristica ma perché mai perché dice allora a questo punto è il gruppo nella sua dimensione unitaria ormai appunto soggettivamente unitaria a stipulare un contratto di lavoro sì sembra una prospettiva futura perché ci collochiamo al di là del contratto di rete pensando che ci sia questo gruppo unitario una persona unica che stipula ma lì il cerchio si chiude perché in realtà veramente con questa prospettiva dell'impresa di rete che è soggetto che stipula un contratto di lavoro siamo tornati all'inizio perché siamo di nuovo a un datore e un lavoratore quindi questa è una situazione diciamo molto classica molto tradizionale quindi per concludere le situazioni più difficili da afferrare più difficili da regolare restano quelle del contratto di lavoro stipulato da un'impresa che poi entra in una rete e che resta in quella rete senza che la rete stessa diventi poi un soggetto unitario allora lì hai uno schema contratuale che può anche complicarti le vicende di gestione del rapporto di lavoro e hai forse un problema di distribuzione delle responsabilità soprattutto quando il programma il programma inserito nel contratto di rete non è chiaro sul punto ho finito grazie grazie professoressa Leonardo ci fermiamo per cinque minuti poi riprendiamo i lavori con il professor Bonfante grazie grazie